M6C1 del Piano Nazionale di Represe e di Resilienza, che fa parte del più grande piano Next Generation U, con cui l'Unione Europea ha inteso finanziare alcuni servizi fondamentali, in particolare la missione 5, servizi sociali e la missione 6, salute, a seguito della pandemia. Ebbene, il piano previsto dalla missione M6C1 prevede tutta una serie di investimenti che vado rapidissimamente ad elencare. In particolare si prevede l'acquisizione di una piattaforma unica regionale di telemedicina che è finalizzata all'erogazione dei servizi relativi al telemonitoraggio dei pazienti cronici, dei pazienti specialistici e all'erogazione dei servizi integrati di televisita, teleassistenza e teleconsulto. La piattaforma, secondo la progettazione, dovrà essere integrata all'interno dell'ecosistema dei servizi digitali regionali che sono già esistenti, quindi andrà ad integrare e implementare ciò che attualmente esiste, che è appunto il fascicolo sanitario elettronico, il cupo e l'anagrafica regionale. In seconda analisi si prevede come piano di investimento il PNRR e dei servizi minimi di telemedicina che devono essere implementati a livello regionale per l'erogazione delle attività sempre di televisita, teleconsulto, telemonitoraggio e attraverso l'acquisizione delle postazioni di lavoro dedicate sulle varie aziende sanitarie territoriali. In terza analisi è previsto l'adozione e quindi l'implementazione dei servizi trasversali a supporto del servizio sanitario regionale per integrare la piattaforma interna del modello organizzativo. C'è una seconda domanda formulata nell'interrogazione, se nella redazione di tali progetti si sia adeguatamente tenuto conto delle diverse caratteristiche rispetto ai territori della regione e come si sia tradotta questa valutazione rispetto a diversi bisogni della popolazione. La risposta è che il decreto ministeriale 77 del 2022 prevede e indica innanzitutto la necessità di potenziare i servizi assistenziali territoriali specie delle zone più svantaggiate per colmare i livelli di diseguaglianza sociale e dei servizi sanitari e in particolare il piano PNRR deve essere coerente con il piano nazionale cronicità e con gli atti di programmazione regionale. In questo contesto si emerge la necessità di implementare strategie di intervento per i percorsi assistenziali e risulta fondamentale questa evoluzione dei piani di intervento, la valutazione appunto sul fattore dell'evoluzione sociale e dell'evoluzione epidemiologica. Una quota rilevante alla popolazione della regione, ma che è infatti costituita da persone molto spesso anziane, sole e affette da una serie di comorbidità e le cui esigenze assistenziali sono determinate non solo a fattori legati alle patologie, ma anche a fattori sociali quali appunto lo status socio-familiare, ambientale, l'accessibilità alle cure e la vita isolata. Con la terza domanda chiede l'interrogante, la collega Lupini, se siano previsti progetti che insistano su più regioni, anche in considerazione del fatto che il piano nazionale di presa e resilienza privilegia tali tipologie di progetti che potrebbero costituire le proprie piattaforme di telemedicina. La risposta è che la piattaforma regionale garantirà la piena interoperabilità e la gestibilità ai dati acquisiti dai device garantendo l'attendibilità e la non alterazione del dato, così come previsto da indicazioni ministeriali. E naturalmente tutto l'intervento del piano PNRR, vorrei ricordare, è garantito e coordinato sotto la regia del Governo e del Ministero della Salute, quindi tutti questi elementi portano a ritenere che con gli investimenti del PNRR si avrà per la prima volta in Italia una interoperabilità di tutti i sistemi sanitari, linguaggi informatici e linguaggi elettronici delle 20 regioni che spesso si sono mosse in modo isolato ma che a seguito di questi interventi dovranno coordinare tutti gli interventi al fine di garantire, come è scritto nel PNRR nel piano Next Generation EU dell'Unione Europea, appunto l'implementazione dei servizi sanitari proprio per i Paesi che avevano dimostrato delle carenze maggiori e per cui è stato giustificato in favore dell'Italia il maggior investimento previsto da questi prevedimenti europei. Grazie Presidente. Grazie per la replica. La Consigliera Simona Lupini, prego. Grazie Presidente, grazie Assessore per la risposta. Grazie Presidente, grazie Assessore per la risposta. Grazie. Grazie a tutti i kontsoviterminati per la risposta del PNRR. Grazie a tutti i finanziamenti e 50 garmore dei traiettili superiore e seconda per i tagli voter investimenti nelle nuove risorse, nelle nuove piattaforme proprio perché ogni elemento, per quello che riguarda l'idea che il PNRR dà, ha un collegamento,ga todos insomma ogni elemento è collegato all'altro e se avremo dei buchi nel sistema, tutto avrà un rallentamento e una difficoltà che poi difficilmente potremo rimediare. Quindi pongo l'attenzione a questo tema e ringrazio per il dettaglio degli investimenti che poi vedremo in base al personale a disposizione all'organizzazione effettiva delle nuove AST con la diversità dei territori che lo stesso Assessore ha sottolineato. Abbiamo delle zone con un'accessibilità all'assistenza molto diversa da altre e credo che questo sia da porre all'attenzione poi di chi organizza in sinergia con le aziende sanitarie territoriali e il governo regionale. Proprio perché non si abbia disomogeneità di assistenza e di possibilità e proprio perché davvero possiamo essere anche competitivi e dare dei servizi innovativi come l'Europa per prima ci chiede e essere anche all'altezza delle altre regioni per mettere in piedi questa sinergia che si vuole ottenere e questa davvero eterogeneità sul sistema nazionale. Quindi io chiedo di darci continui aggiornamenti anche proprio sul dettaglio dell'implementazione di queste piattaforme digitali e torneremo sicuramente in quest'Aula sul tema. Se ci fosse la possibilità Assessore di avere la risposta scritta ne sarei contenta così da poter guardare meglio il dettaglio. Grazie. Grazie. Sì 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 assolutamente. Allora direi per una richiesta di un impedimento poi del Consigliere Astrovincenzo se siete d'accordo sottopongo la votazione, l'anticipo dell'interrogazione e l'abbinamento con la mozione 331. Quindi se non c'è nessuno che interviene per opporsi a questa decisione apriamo intanto una votazione quindi sia per l'anticipo dell'interrogazione ma soprattutto per l'abbinamento con la mozione 331. Va bene? Quindi apriamo la votazione. Adesso prego votare chi è a favore vuota verde chi è contrario vuota rosso chi si astiene giallo. Chiusura della votazione, favorevoli di Ciasette, contrari nessuno, astenuti nessuno, la proposta di anticipazione e avvinamento è accolta. Quindi partiamo dalla interrogazione 705 del Consigliere Mastrovincenzo, Grancini, Mangialardi, Biancani, Bora, Casini, Cesetti e Vitri a cui risponde l'Assessore Filippo Saltamartini. Prego Assessore. Presidente, l'interrogazione ha per oggetto l'annosa questione della durata di validità delle graduatorie del concorso personale della sanità. La materia è ricondotta dal decreto legislativo, si riconduce dal decreto legislativo 165 del 2001, il terzo unico degli impiegati civili dello Stato che in origine prevedevano che la durata delle graduatorie dovesse essere di tre anni. Con una modifica apportata nel 2019 dal Ministro della Funzione pubblica Madia, la durata di queste graduatorie è stata riportata a due anni. La conseguenza di questo provvedimento per i provvedimenti della Regione Marche è che i due concorsi che sono ancora validi, il concorso per infermieri e il concorso per operatori sanitari, rischiano di determinare l'impossibilità per la Regione di assumere questo personale, secondo il piano triennale del fabbisogno. A riguardo la Regione si è già mossa, ci sono state delle interlocuzioni con il Governo, lo stesso Presidente Acquaroli ha incontrato il Ministro della Salute, io stesso ho avuto un'interlocuzione con il Ministro della Funzione pubblica e il Ministro della Salute. È previsto per la prossima settimana, per martedì della prossima settimana, un incontro di tutti gli assessori regionali della Sanità con il Ministro Giorgetti e con il Ministro Schillaci per evidentemente rivendicare un provvedimento parlamentare che possa almeno o segnatamente per il Presidente della Sanità allungare la durata dei concorsi almeno a tre anni o noi abbiamo chiesto quattro anni. Si deve tener conto evidentemente che in materia si scontrano diversi interessi generali, quelli dei giovani partecipanti ai concorsi che hanno vinto un concorso e hanno diritto di essere assunti ed evidentemente la necessità che le graduatorie per il personale della sanità durino più a lungo di due anni per due semplici elementi di valutazione. Il primo è che permanendo il tetto di spesa per l'assunzione del personale che è legato al patto di stabilità, quindi a vincoli costituzionali che più volte abbiamo richiamato in quest'Aula, gli articoli 8197 della Costituzione, ma anche i vincoli di arrivante articolo 11 relativamente al trattato sull'Unione Europea, sul funzionamento dell'Unione Europea che impone al nostro Paese di tenere sotto controllo la spesa pubblica, ebbene in considerazione di tutto questo la durata biennale dei concorsi per il personale della sanità porta a determinare una violazione dei parametri di buon andamento e imparzialità perché i concorsi hanno la caratteristica di determinare un tempo maggiore per la loro conformazione, per la loro conclusione e in quei due anni poi addirittura interviene anche il parametro del patto di stabilità che impedisce molto spesso di assumere il personale. Io avevo detto all'inizio di questa nostra consigliatura, quando fu approvata la graduatoria di 3.000 infermieri che al servizio sanitario regionale in assenza di medici servirebbe poterli assumere tutti quanti e più volte ho ribadito anche in presenza di un governo che non era della stessa conformazione politica nostra che sarebbe stato opportuno prevedere delle deroghe per le regioni che potessero assumersi finanziariamente la possibilità di assumere appunto questo personale. Tutto questo evidentemente non è stato possibile, probabilmente perché c'è una ragione di parità tra le regioni perché se si ammettesse questo principio le regioni più ricche avrebbero dei livelli maggiori di sanità comunque resta il fatto che rispondendo a questa interrogazione la Regione Marche ha rappresentato al governo l'esigenza di allungare la durata dei concorsi almeno non più da due anni ma almeno a tre anni o a quattro anni così come prevedeva la previgente formulazione del decreto legislativo 165 del 2001. Vedremo all'esito di questo incontro programmato per martedì la prossima settimana con il ministro del sviluppo economico Giorgetti e con il ministro Schillaci ripeto previsto per martedì prossimo che cosa il governo potrà dire sull'argomento. L'atto riguardava in particolare il decreto legge sulla proroga dei termini il decreto legge sulla proroga dei termini è una legge navetta che ogni anno si approva per spostare i termini di scadenza di tutta una serie di provvedimenti legislativi il provvedimento è stato approvato senza questa modifica e naturalmente però ci sarà l'opportunità da parte del governo con i numerosi decreti legge che ha approvato per inserire questa disposizione. Grazie. Per la replica il consigliere Antonio Mastro di Vincenzo. Sì, grazie. L'assessore proprio adesso faceva riferimento al decreto 1000 proroghe dove non è stata inserita la proroga in questione. Io mi auguro che come auspicava lei questo avverrà con emendamenti nelle prossime settimane emendamenti urgenti e da questo punto di vista evidentemente confidiamo nell'impegno suo personale e del Presidente. Così come ha detto alle organizzazioni sindacali che hanno manifestato sotto questo palazzo la scorsa settimana la manifestazione eravamo presenti anche noi come gruppo consigliare del Partito Democratico e aggiungo che le chiedo anche un impegno rispetto anche all'interrogazione che abbiamo presentato sulla elaborazione del piano di fabbisogno del personale per il 2023 che ancora non c'è perché sono evidenti le carenze di organico a tutti così come le chiedo un impegno massimo nei prossimi giorni prima della scadenza delle graduatorie per adempiere insomma eseguire il maggior numero di assunzioni possibili nei limiti appunto del possibile però dar seguito a questa assunzione già nei prossimi giorni come so che già sta avvenendo nelle ultime ore perché è evidente che ci avviciniamo sempre più alla scadenza delle due diverse graduatorie e quindi mi auguro che in questo ci sia un'accelerazione da parte della giunta regionale. Grazie. Grazie ora per l'esposizione della mozione abbinata la parola il consigliere Maurizio Mangelardi. Intanto buongiorno Presidente, buongiorno a tutti, grazie, grazie molto è stato già detto ma qui c'era l'impegno nostro, lo stava ricordando il collega Mastro Vincenzo perché noi abbiamo partecipato come gruppo alla manifestazione del 20 febbraio che si è svolta qui sotto Palazzo Leopardi, una manifestazione unitaria dei sindacati confederali della CGL, la funzione pubblica. In quell'occasione guardo e abbiamo condiviso, no, Assessore, che avremmo presentato noi una mozione e che spero ci sia il voto unanime dell'Aula perché, Assessore, è vero che ci sono i provvedimenti che lei ha ricordato, il 165, poi la modifica della Madia che impone nel 2019 la durata delle graduatorie dei concorsi. Ma nel 2019 poi è successo qualcosa e quindi quelle graduatorie dove è stato attinto erano quelle del Covid e quindi quel personale che oggi potremmo mettere subito a disposizione, spero anche con le interlocuzioni che ci sono, anche modificando i tetti di spesa e del personale, è quel personale che noi abbiamo chiamato gli eroi del Covid che rischiano oggi invece di ritrovarsi dentro una procedura di nuovo concorso e di tempi e dilatazioni e di grandi, grandi difficoltà. Quindi, Assessore, noi eravamo rimasti che la prima interlocuzione ci sarebbe stata martedì 21 febbraio. Non penso che ci sia stato qualche problema o ci sono solo un incontro al Ministero con il Ministro in quella data. Abbiamo capito che ancora non è niente di impegno definitivo, però una posizione di questa assise dove dà mandato all'assessore al Presidente in conferenza delle regioni di porre il tema e che al primo decreto utile sia inserita la possibilità di prorogare quel graduatorio che ci sembra, come dire, un atto dovuto. Io ricordo nel confronto con i sindacati in piazza che oggi abbiamo anche un governo dove abbiamo maggiori sintonie. Ricordo che le sintonie dovevate avere anche prima, o meglio, c'eravamo tutti le sintonie anche per il governo precedente. Oggi che rivendicate questa opportunità in più, noi speriamo veramente che si possano concretizzare. Quindi le due graduatorie stanno scadendo, ma con loro scadono anche e si consumano tutti i tempi che sono indispensabili per consentire, perché poi una volta scadute le graduatorie non ci sarà nessun provvedimento a quel punto in grado di. Capisco, quando lei sottolinea il conflitto che ci potrebbe essere, ma in questo caso sono quelli che sono stati in prima linea, sono quelli che hanno affrontato la fase più complicata e soprattutto non dimentichiamo che per riattivare quei due tipi di concorso potrebbero esserci, anzi sicuramente ci saranno dei tempi non compatibili con le necessità e delle risorse di competenze umane e professionali che il nostro sistema sanitario ha bisogno. Quindi, come dire, auspico, anzi ne sono certo perché anche qui l'assessore si è speso in questa direzione, che ci sia il voto unanime che può rafforzare solo la posizione del Presidente e della Giunta rispetto a questo tema dove da parte nostra c'è stata sempre particolare attenzione e continua a esserci perché abbiamo veramente timore che la data di marzo è ormai imminente e quindi il rischio che poi con la scadenza delle graduatorie si possa compromettere ulteriormente la risposta ai bisogni di salute della nostra regione. Grazie. Grazie. Adesso apriamo la discussione sulla mozione che chiede di intervenire. Chiede di intervenire l'assessore Filippo Saltamartini. Prego, assessore. Sì, Presidente. Mi pare di aver espresso la volontà della Giunta di votare questa mozione perché è negli atti dell'attività della regione quella di chiedere una modifica al decreto legislativo 165 del 2001 che proroga la durata delle graduatorie, almeno assegnatamente per il personale della sanità. Si valuti che le aziende stanno per bandire altri concorsi ma senza la prosecuzione della possibilità di assumere il personale della graduatoria per infermiere e per ossi si determinatebbe un grave documento per il buon andamento della pubblica amministrazione sanitaria. Nella mozione però si fa riferimento al decreto mille proroghe che come ho esplicitato nel precedente mio intervento non ha alcun senso quindi sarei dell'avviso che fosse riformulato nel senso di chiedere al governo l'inserimento di questa modifica in un qualunque decreto legge che è all'esame del Parlamento. Quindi siamo in maggioranza, la Giunta è assolutamente d'accordo e ringrazio le opposizioni almeno da questo punto di vista per aver aderito a questa importante esigenza che va a soddisfare di interesse pubblico. Consigliere Romano Carancini, prego. Sì Presidente, intanto per prendere atto delle parole dell'assessore che sono parole che apprezziamo perché si fa carico di un tema molto caro al territorio, molto caro alle tantissime persone che sono all'interno di questa graduatoria e soprattutto mi pare di aver colto in questo senso la consapevolezza che non si può buttare a mare un concorso nel quale sono in graduatoria migliaia migliaia di persone, voglio ricordarlo molti marchigiani e marchigiane che lavorano fuori dalla regione che auspicano il ritorno. Ora qui non si tratta credo io di fare forzature o altro, però la sollecitazione che vorrei fare all'assessore perché penso e credo che qualche margine ci sia, è quella ben prima, qualche giorno prima, comunque in un tempo utile, precedente alla scadenza e direi anche nella consapevolezza dell'incontro con gli organi dello Stato di verificare, di esplorare tutte le possibili azioni amministrative che la regione può mettere in campo per trovare una forma di proroga di quella graduatoria. Assessore, siamo certi, io ne sono convinto al di là delle tante diverse interpretazioni che abbiamo sul sistema sanitario, che lei farà in modo di poter verificare e esplorare queste opportunità, proprio perché credo che l'attenzione verso le persone debba esserci. Ci farebbe anche piacere che su questo, lo dico al Presidente Nicola Baiocchi della Commissione Sanità, che prezzo e lo voglio dire per il suo lavoro che sta portando avanti in successione all'altra consigliera, la Presidente Leonardi, perché io credo che anche la Commissione Sanità per rafforzare gli intenti e anche il lavoro su un tema come quello del personale, che non attiene evidentemente al tetto del personale, ma attiene proprio alla questione della possibilità immediata di poter utilizzare quella graduatoria. Credo che una pronuncia, noi domani abbiamo Commissione Sanità, un atto di indirizzo, un ordine del giorno che su questo possa chiedere alla Giunta di esplorare attraverso i tecnici possibili scelte di proroga che non confliggano con la norma statale, credo che sia una buona cosa. Dobbiamo, mi viene da dire, non essere indifferenti e non lasciare nulla di intentato. Ovviamente se poi il Governo su questo avrà questa opportunità di poter trovare una soluzione, credo che sia auspicabile. Per questo naturalmente voglio dire grazie in questo passaggio, per questa interrogazione e emozione dei consiglieri a prima firma di Antonio Mastrovincenzo e del caporupo a Maurizio Mangialardi di un voto favorevole. Credo che sia un buon atto da parte dell'intero Consiglio regionale. Grazie. Grazie. La consigliera Anna Casini, prego. Grazie Presidente. Magari l'assessore potrebbe interessarsi un pochino più a quello che dicono i colleghi o che hanno detto i colleghi, per trovare una sintesi magari invece che soltanto con la maggioranza ha detto questo, io non sarò così morbida come i miei colleghi. Nel senso che ci sono delle date, assessore, che dimostrano l'incapacità di questa giunta di colloquiare e di avere comunque risposte dal Governo nazionale che tanto a fine è. E le do delle date, nel senso che il 16 febbraio il decreto mille proroghe è stato blindato in Senato e lì avevamo chiesto e avevano chiesto anche gli operatori sanitari e già i sindacati da tempo, perché non è da oggi che si parla del problema della scadenza delle proroghe, e non c'è soltanto il problema dei dipendenti che non vengono prorogati o che non possono essere assunti. L'assessore parla e se ne frega, come direbbe lei di Diana Spencer, del se ne frega assolutamente di quello che io sto dicendo, ma tra l'altro parla forte e quindi impedisce anche agli altri di ascoltarlo, assessore. Le stavo dicendo che ci sono delle date che dimostrano l'incapacità di questa giunta di poter, perché le interlocuzioni ormai per me è diventata una barzelletta, nel senso che se leggete i giornali, non tanto lei quanto il Presidente Acquaroli interloquisce in continuazione su tanti temi, non ultimo quello della 14, la percorsa stamattina, ci sono tutti i cantieri e si percorre la strada ad un solo senso di marcia e l'unica cosa vera che ha detto Acquaroli è che non ci sono i lavori, è vero, nessuno lavora. Ci sono i cantieri, ci sono i ristringimenti di carreggiata, ma nessuno lavora e questo lo posso proprio accertare e confermare. Tornando a prima, noi abbiamo 2 mila persone che sono idonee che avremmo potuto inserire e se non ci interessasse il problema del lavoro, ma guardassimo solo la sanità e sapendo che in sanità c'è una carenza enorme di personale sanitario, avreste dovuto fare qualcosa di più perché il 16 di questo mese si è tenuto in Senato, c'è stata l'approvazione, il primo passaggio in Senato, il secondo, il primo passaggio in Senato, scusate, del mille proroghe. Nessuno di voi ha deciso di presentare o meglio di far approvare un emendamento che prorogasse, eppure questa cosa era stata chiesta. Lei ha incontrato i sindacati, la prima volta che l'ha incontrati, c'eravamo anche noi presenti, c'ero io con i colleghi consiglieri del Partito Democratico, li ha incontrati il giorno 21. Il 23, assessore, lei queste cose, visto che frequentate molto la conferenza delle regioni, le dovrebbe sapere, il 23 c'è stata la seduta della Camera che ha approvato in via definitiva il decreto mille proroghe. Quella era un'occasione, se avevate le capacità, non di interlocuzione, quelle ce le abbiamo tutti, perché interloquire è come l'ordine del giorno, non viene negata a nessuno, almeno finora, ma la capacità di incidere, se ci doveva essere, doveva essere dimostrata in queste settimane, nelle quali si è deciso di approvare il mille proroghe. Si chiama mille proroghe, quale atto migliore di quello per inserire la proroga, una proroga importante per la sanità. Invece continuiamo ad interloquire. Ora, è chiaro che la mozione e l'interrogazione sono state da me sottoscritte e sono appoggiate ed approvate, io sono ben contenta che voi ce le approviate per poter dare uno scossone magari tutti insieme al Governo, ma non mi pare che ci sia stato in Parlamento l'interesse ad approvare, a inserire un emendamento che ci consentisse di poter prorogare e assumere questo personale. E ripeto, è importante, quest'atto sarebbe stato importante, non soltanto e anche per i dipendenti, ma soprattutto per il sistema socio-sanitario, perché nelle Marche, come ben sappiamo, siamo Assessore andando veramente in discesa. Io la invito a vedere le statistiche e dove erano posizionate le Marche nel 2020. Eravamo tra le cinque regioni più virtuose d'Italia per la sanità. Ora aspettiamo che escano le nuove verifiche, soprattutto Silea, e poi vediamo dove siamo finiti, perché non è soltanto una percezione quella che abbiamo del non funzionamento del sistema sanitario. Abbiamo una percezione che è dimostrata dai dati, abbiamo una percezione che è dimostrata dalle liste d'attesa, abbiamo una percezione che è dimostrata dall'accorpamento dei reparti. Perché se lei venisse, per esempio, nell'ex Arravasta 5, ora azienda, quindi non so come sopravviveremo nel sud delle Marche, come azienda, ma venga a vedere quanti reparti sono accorpati e quante sale operatorie sono effettivamente nella condizione di poter operare. Le ripeto che noi abbiamo il caso del primario dell'urologia, che oltre a non avere un reparto, perché in realtà non ha un reparto, essendo il suo reparto accorpato, deve prendere i pazienti, portarli ad Ancona, operarli ad Ancona, rimetterli nell'ambulanza, riportarli ad Ascoli per il postoperatorio. E questa è una cosa che, se non fosse cinicamente costosa, è scelerata dal punto di vista dell'attenzione e della cura che noi dovremmo avere per il paziente, ma anche cure e attenzione per chi lavora all'interno dell'ospedale, per chi si prende, tra l'altro, tutte le responsabilità di azioni che possono essere, non definiamole, azioni che non sono virtuose nel senso migliore del termine, che in una materia qualunque possono avere una franchigia di sopportabilità. Nel caso della sanità questa franchigia deve essere assolutamente ridotta a zero, la forbice non deve esistere. Quindi io con i miei colleghi invito ad approvare la mozione per poter insistere con il Governo che nel primo atto possibile in Parlamento inserisca questa proroga, però non posso non verificare l'incapacità che avete dimostrato, soprattutto nel mese di febbraio. Grazie, adesso ho chiesto di intervenire il consigliere Carlo Ciccioli, prego. Allora, intervengo perché il tema ovviamente lo conosco in prima persona per aver lavorato tanti anni in sanità e per seguirla con molta attenzione oggi. Apparentemente, ma dico apparentemente, il ragionamento della collega Casini non fa una piega, apparentemente. Poi invece le pieghe ci sono. Quali sono le pieghe? Perché il problema è tra le cose semplici, cioè senza piega e le cose complesse con le pieghe, così dice il latino. Allora, questa è complessa perché noi ci troviamo di fronte a uno schema complicatissimo. Da una parte abbiamo le graduatorie, le graduatorie che dal punto di vista così logico il discorso è perfetto, cioè non è possibile che una gradatoria che si mette spesso, non mesi, anni a essere costituita e a essere pubblicata, poi valga solo due anni. È una cosa che quasi non sta in piedi. Tra l'altro non sono leggi nostre, sono leggi fatte dal centro-sinistra, quindi potremmo coprirci dietro questa cosa dicendo è colpa vostra. Ma la logica dice che due soli anni di validità erano tre anni prorogabili a quattro, a discrezione, adesso la riduzione a due anni per permettere il turnover, cioè per permettere ai nuovi diplomati, ai nuovi laureati di entrare, però è abbastanza discutibile perché un biennio è molto corto se lo vai a vedere e il triennio sarebbe la vecchia legge che diceva tre anni prorogabili a quattro, secondo me non era fatta male. Comunque un triennio è assolutamente corretto. Però noi ci troviamo di fronte anche a un conflitto di interessi che riguarda le cosiddette sanatorie, cioè tante persone che hanno lavorato in epoca Covid, che hanno maturato i requisiti per essere assunti, ma in presenza della gradatoria non possono essere assunti. Io capisco l'opposizione perché l'ho fatta quasi tutta la vita, giocare su tutti i tavoli, giocare sul tavolo dei precari che sono stabilizzabili e dirgli perché non vi stabilizzano e poi giocare sul tavolo le gradatorie perché non vi assumono, che c'è una confligenza di interessi tutti e due corretti, tutti e due onesti, tutti e due possibili. Non è che chi ha lavorato come precario si aspetta di essere stabilizzato e entrare in ruolo. Chi è in graduatore e legittimamente è arrivato nel punto utile della graduatoria è sospetta di essere assunto. Ma poi c'è anche un terzo elemento, sempre della conflittualità, che è il famoso tetto di spesa. In realtà il tetto di spesa ci impedisce il più delle volte di non assumere né la graduatoria né di stabilizzare quelli che potrebbero essere stabilizzati perché non ci sono gli spazi finanziari per stabilizzare. Una situazione complicatissima, devo dire la verità, che implica delle decisioni con responsabilità anche personali. Per esempio, io su questo ci rifletto, non dico che la soluzione è possibile. Però, poiché la materia sanitaria è una materia concorrente tra lo Stato e le regioni e poiché è intervenuta anche una decisione, una sentenza della Corte Costituzionale al numero 84 del 2022, che è stata pubblicata l'8 marzo del 2022, leggo i numeri perché se no non me li ricordavo precisamente, che autorizza le regioni a assumere in deroga della legislazione nazionale. Cioè la regione può utilizzare le graduatorie, volendo può. È una decisione della Corte Costituzionale quindi blindata ma anche controversa, perché poi in materia concorrente lo Stato può decidere di impugnare la decisione alla regione e riportare l'effetto di quella sentenza di nuovo all'attenzione degli organi dell'esame della legittimità delle decisioni amministrative prese. Quindi è veramente un ginepraio. Io dico francamente, quando ho lavorato nel Servizio Pubblico Nazionale con incarichi direttivi, direttore di unità complessa e capo dipartimento successivamente, le mie responsabilità me le sono prese. Sulla assunzione, anche in deroga di quella che era la giurisprudenza consolidata. Sono passate, non ho avuto osservazioni, quindi alcune persone sono state su mie richieste assunte per cercare di coprire gli organici, perché il problema era la scopertura degli organici e la carenza di personale per svolgere prestazioni e servizi. Quindi è un tema molto controverso. È chiaro che la via maestra sarebbe il mille proroghe sana, mette un emendamento che permette l'utilizzazione del gradatore e tutti siamo coperti. Però un minimo di malizia ce la metto. Questa non emendamento consente di sanare la situazione dei precari Covid. Questa è la verità vera, secondo me. Perché se quelle graduatorie sono valide, la sanatoria dei precari Covid è impossibile, perché ci hanno le precedenti della graduatoria. Una sospensione temporanea della graduatoria permette di completare la sanatoria dei quelli nel turnover, quindi nella possibilità di assunzione, quelli che stanno ormai a fine corsa del precariato del 2020-2022 e contemporaneamente poi la riassunzione di queste graduatorie tra qualche tempo permette anche di dare giustizia a chi è legittimamente in graduatoria. Io non so se le cose stanno così. Qualcuno diceva che a pensare male si fa peccato, ma in realtà in questo caso è a pensare bene perché riesci a dare una risposta, anche se parziale, a tutti e due i canali di assunzione. Quello della stabilizzazione e quello del precariato e quello invece delle graduatorie legittimamente in atto, perché in tempi diversi può utilizzare un po' tutti e due. Certo, bisognerà prima o poi intervenire su questo e comunque i tempi non sono lontani, perché ci sono altri atti legislativi, lo diceva anche prima la consigliera, la collega Casini, che in Parlamento stanno andando avanti altri misure in cui è possibile agganciare questa norma. Però nel frattempo c'è la finestra per assumere i precari Covid. Così la vedo io, non è detto che sia corretto e giusto, ma così mi sembra che sia. Grazie. Non ci sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione sulla mozione. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono degli emendamenti, mi dice il Dottor Usi. Grazie. 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 Direi di sospendere questo punto, ritornare alle interrogazioni partendo dalla numero 1, anzi partendo dalla numero punto 3, la 641, consigliere Vitri che però è assente quindi non viene svolta, quella qui deve rispondere l'assessore Aguzzi. Passiamo alla 704 della consigliera Ruggeri, l'assessore Aguzzi deve rispondere alle interrogazioni che sono abbinate alla 704 della consigliera Ruggeri. Fu riuscito a dipercolare la discarica di Caluscio da Urbino con la 707 dei consiglieri Cancellieri, perdita di percolare la discarica di Caluscio da Urbino. Prego, assessore Stefano Aguzzi per la risposta. No, facciamo l'interrogazione quando è completata e ritorniamo sulla mozione, sull'emendamento. No, è perché l'assessore Aguzzi deve a un incontro, ho dato questa indicazione, a una riunione. Prego, 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 assessore. Vabbè, io sono a disposizione anche per l'altra se volete, mi fermo un attimo. Sì, sì, perfetto. Facciamo quest'ordine che ho raccolto. Venendo a questa interrogazione che rispecchia di fatto gli stessi quesiti sia da parte della consigliera Ruggeri che da parte dei consiglieri Cancellieri, mi pare che di fatto chiedano più o meno le stesse cose. Io intanto ho preciso che la situazione è, diciamo così, di responsabilità della provincia di Pesaro Urbino, non tanto della regione Marche. E noi non è che siamo tenuti in questo caso a portare avanti atti o iniziativa. Certo che la cosa ci ha subito un attimo allarmato e ovviamente abbiamo preso anche noi i nostri contatti per capire cosa fosse avvenuto al di là di chi ne ha, diciamo, responsabilità diretta. Per saperne di più, anzi, abbiamo proprio scritto una lettera alla provincia di Pesaro Urbino dove gli abbiamo chiesto tutta una serie di chiarimenti che più o meno rispecchiano a grandi linee le stesse questioni che vengono poste anche dai consiglieri, anche perché tali sono, per capire effettivamente la gravità del fatto, cosa effettivamente è successo, se è stato meno risanato o quali precauzioni si prenderanno per il futuro. È un po' quello che abbiamo chiesto noi e la provincia e sono arrivate di ritorno anche da parte ovviamente dei consiglieri, non poteva essere diversamente. Io devo dirvi che ad oggi la provincia ufficialmente non c'è ancora risposto per iscritto. Abbiamo sentito ovviamente gli uffici e ci hanno dato una serie di risposte orali e verbali, che adesso io vi do, non avendo un qualcosa di scritto in mano. Poi se arrivano cose diverse, ma deduco che non arriveranno cose diverse da quelle che ci hanno già anticipato, ve le elenco a grandi linee, sono le cose che in parte già si sapevano, con qualche precisazione in più. Il fatto, ad esempio, che la fuoriuscita è stata dovuta, sì, all'ossitamento di un connettore della tubazione del percolato a causa del gelo, come da parte, credo, della consiglieri Uggieri me l'ha stato chiesto. Questa fuoriuscita è stata riscontrata da un confinante, da un agricoltore che abita lì in quella zona, così come c'era stato precedentemente detto. Il gestore Marche Multiservizi è intervenuto in meno di un'ora, mi si dice, con personale formato per gestire tali tipologie di incidenti per mettere in sicurezza l'area. Sul luogo è intervenuta anche Arpan, che ha fatto tutti i suoi rilievi, e anche su questo oggi non abbiamo un riscontro ufficiale, anche se ci dicono che comunque l'area stata ripristinata parrebbe senza, diciamo così, conseguenze. Però questo poi scientificamente va ovviamente provato con le analisi delle quali però ancora non abbiamo una diretta rispondenza. Il materiale è stato completamente rimosso per evitare l'interessamento di altre aree o di altri corsi d'acqua della zona. La tubazione è stata ripristinata pienamente, il gestore sta progettando un sistema di sensori e controlli tale che nell'eventualità di futuri guasti venga tempestivamente verificata da sensori l'anomalia e bloccato quindi il flusso in maniera automatica, dovesse mai risuccedere, speriamo di no. Queste sono le cose così come il MLEA e ce le hanno elencate gli uffici della provincia. Ovviamente attendiamo una risposta scritta che, ripeto, ad oggi non è ancora arrivata pur avendola sollecitata anche telefonicamente. Queste sono le questioni sulle quali mi avevate richiesto una risposta e io vi do le risposte che la provincia ci ha puntualmente fornito. Per la replica la consigliera Marta Ruggeri, prego. Sì, grazie Presidente, grazie Assessore per la risposta che come lei ha anticipato è parziale quindi mi riservo magari di fare un accesso agli atti di modo che quando avrà la lettera ufficiale da parte della provincia ne potrò prendere visione anche io. Quindi, insomma, le sue preoccupazioni naturalmente sono le nostre perché il problema è che la versione che è stata diffusa prontamente dal gestore per tranquillizzare anche la cittadinanza è stata che lo sfilamento di questo tubo è avvenuto per il grande freddo di quei giorni solo che il problema è che a Urbino sappiamo che temperatura c'è d'inverno e quindi questa cosa non scongiura la pericolosità o la possibilità, più che pericolosità, che questo episodio accada anche perché nel giro di pochi mesi è già la seconda volta che c'è la fuoriuscita di percolato da quella discarica che è stata chiusa. Poi quando si parla di alcuni metri cubi per noi sarebbe interessante sapere se si ha contezza del quantitativo in maniera più esatta sapere i risultati di ARPAM che lei giustamente dice ancora non li abbiamo sapere se la bonifica è già partita e che porzione di territorio riguarda e poi soprattutto se ci sono delle responsabilità operative o tecniche insomma vorrei ricordare che l'allerta è partita da un cittadino che ha la sua azienda a 7 km da dove c'è stata la fuoriuscita quindi il nostro dubbio è che si sia diffuso anche altrove questo percolato e adesso non vorrei ripristinare una polemica che speriamo sia sopita però la nostra mozione che è stata bocciata la settimana scorsa era importante come Movimento 5 Stelle ci tengo a rimarcarlo perché vediamo che la gestione delle discariche anche post mortem è una gestione molto delicata che non può essere per quanto possa essere accurata non può impedire che avvengano incidenti di questo tipo e dalle conseguenze che non conosciamo perché se sono ripetuti e se non c'è un intervento pronto potrebbero avere delle conseguenze negative sappiamo benissimo che lì per esempio ci sono aziende che producono biologico quindi anche per la salute dei cittadini insomma ci sono delle problematiche connesse alla gestione delle discariche detto questo per noi era importante chiedere a questa assemblea che ci fosse la volontà di porle il più lontano possibile dei centri abitati quindi al di là del risultato della bocciatura della mozione che può essere anche un dato politico dovuto semplicemente al fatto che l'abbiamo proposta noi però io torno a chiedere che in fase di revisione del PRGR anche in conseguenza di episodi di questo tipo che come vediamo possono capitare anche con la gestione migliore possibile però le discariche sono luoghi fragili e per tutelare l'ambiente e per tutelare i cittadini io vi prego di prendere in considerazione la proposta che abbiamo avanzato anche la settimana scorsa grazie grazie adesso per la replica il consigliere Giorgio Cancellieri sì presidente grazie prendo atto della risposta dell'assessore Aguzzi che tra l'altro ci darà ulteriori dati appena ne sarà in possesso lui ci darà ulteriori dati su la vicenda proprio in sé ma a me quello che piace rimarcare con questa interrogazione è che purtroppo lo sversamento di percolato nel fosso di Repuglie o il fosso di Beltutti come lo chiamiamo noi relativo al nome di una famiglia che vive proprio in quelle zone è una cosa che l'assessore si manifesta continuamente l'ultimo sversamento l'abbiamo avuto il 6 di ottobre dell'anno scorso chiamiamolo così quello il penultimo il terzo ultimo l'abbiamo avuto il 15 aprile 2022 era il giorno di venerdì santo ma io e da sindaco e un po' prima e un po' dopo rispetto al mio incarico decennale di sindaco nel comune di Fermiano questi sversamenti quasi tutti gli anni se ne vedevano è questo un po' il grande problema di quello che ci sta succedendo relativamente alla gestione della discarica di Caluccio indipendentemente da chi la faccia noi vediamo sversamenti su quel fosso che sono praticamente ripetuti e si manifestano tutti gli anni ora voglio ragionare da cittadino assessore che piace anche a lei lo so per l'impatto come dire proprio per chi ha fatto il sindaco nei territori ragiona sì da uomo delle istituzioni ma un po' anche da cittadino e penso a tutte quelle famiglie che vivono lungo il percorso del fosso di Repuglie dove si fa agricoltura biologica dove si vanno a trovare tartufi dove si vanno a trovare funghi dove c'è anche un'agricoltura normale dove ci sono altre attività dove ci sono anche altre attività lungo il percorso di quel fosso e lì ogni tanto arriva percolato nel fosso questa è la sostanza ci sono state anche vecchie questioni che hanno avuto risvolti di tipo legale poi finiti no in termini no diciamo così non ci sono state delle sanzioni penali o amministrative per chi le ha subite proprio sempre in relazione a questa gestione di questa discarica ma il problema è che qui ogni anno chi gestisce gestisce il problema dello sversamento di percolato si rimanifesta continuamente per una motivo e per l'altro diceva giustamente anche la consiglia Ruggeri è evidente che nella zona di Urbino nella zona di Montefeltro la neve e le gelate arrivano tutti gli anni quindi ecco bisogna stare attenti proprio anche in questa gestione post mortem voglio ricordare per esempio che i pesci in questo fosso di Repuglie sono ormai la vita di questo fosso non c'è più da tantissimi anni i pesci sono morti tantissimi anni fa abbiamo rivisto qualche rana circa 3-4 anni fa e poi è riscomparso praticamente tutto proprio perché questi sversamenti li abbiamo avuti in maniera recidiva e ripetuta proprio negli anni quindi non fa piacere non fa piacere che questi problemi ritornino di continuo e non vengono mai risolti senza poi considerare che il fosso finisce direttamente nel fiumo Metauro che è il fiume per la nostra provincia il fiume di più grande impatto di più grande importanza per cui ecco quello che abbiamo voluto mettere in evidenza in questa assemblea e che sarebbe ora indipendentemente da chi gestisce adesso il post mortem di quella discarica che sto problema finisse perché non è più possibile tollerarlo mi metto da cittadino di quel territorio io sono nato ma neanche a 700-800 metri da quel fosso ecco fisicamente non è più sopportabile vedere ogni 3-4 mesi uno sversamento di nuovo percolato per delle ragioni più o meno tra l'altro diverse comunque grazie al Sessore della risposta e attendiamo ulteriori notizie su questo versante grazie ancora grazie adesso torniamo alla mozione 331 prego di avere gli emendamenti per la discussione e votazione allora il primo emendamento è relativo alla parte espositiva che è sospituita dalla seguente premesso che vi è l'esigenza di garantire la funzionalità dei servizi sanitari il secondo emendamento quindi questo emendamento è indicato come MOZ 331M1 il secondo emendamento MOZ 331-2 nel dispositivo della mozione le parole da chiedere OS sono sostituite dalle seguenti chiedere al governo di prevedere che la durata delle graduatorie del personale della sanità sia di 4 anni non di 2 come previsto attualmente a seguito della riforma Madia nel primo atto legislativo utile temporalmente chi chiede di intervenire sui due emendamenti può fare un solo intervento prego il consigliere Carlo Ciccioli no brevemente per dire che soprattutto il dispositivo che è quello che l'impegno dicevo è stato concordato mi sembra di corretto di buon senso e prevede sostanzialmente l'attore è il governo non è che siamo noi o altri che il governo preveda nel testo che ritiene più opportuno se il testo unico o un altro provvedimento legislativo di inserire questa norma che consente di dare respiro alle graduatorie perché se no le graduatorie stante il tetto di spesa diventano misere cioè la possibilità di assumere è ridotta a poche decine di unità non arrivano a centinaia di unità mentre ci sono sono tantissimi coloro che concorrono per il il bando e poi quelli che sono ritenuti idoni sono un numero significativo quindi credo che sia un atto che non ha né colore politico né è un atto di buona amministrazione su questo non ci può che essere il parire favorevole aggiungo che nelle more di questa situazione se nel frattempo si riesce anche a stabilizzare una quota dei precari che sono a rischio di perdere l'opportunità di entrare dopo aver prestato servizio per un tempo significativo cioè minimo 18 mesi ma molti anche due anni due anni e mezzo di poter entrare nella pubblica amministrazione dopo aver vinto il bando diciamo a tempo determinato e quindi passare a tempo indeterminato questa è una raccomandazione chiamiamo così che faccio ai servizi all'assessorato grazie grazie l'assessore Filippo Salta Martini sì presidente per rettificare che l'incontro con il governo è previsto per domani mattina con il ministro Giorgetti e il ministro Schillaci quindi porterò così come è stato concordato la mozione deliberata dal consiglio regionale ed è un'ottima diciamo così un'ottima prospettiva grazie grazie assessore la consigliera Anna Casini allora il partito democratico condivide l'emendamento soprattutto perché è stata aggiunta una frase che è importante che è quella che lega la richiesta al tempo e mi fa piacere che vi vediate assessore domani che abbiate l'incontro con il ministro e insomma mi auguro che questa carenza che c'è stata nel mille proro che possa essere sanata e sono d'accordo siamo stati d'accordo con il partito democratico a non inserire il testo unico ma lasciare libero il governo di modificare con il primo atto utile e temporalmente utile soprattutto per tutto quello che è stato detto prima delle diverse tipologie di graduatori e di dipendenti la possibilità di prorogare e quindi di assumere in tempi brevi quindi mi fa piacere che domani lei abbia questo incontro potrà portare se tutti la voteremo questa mozione e quindi questo insomma è un atto molto importante da questo punto di vista e ci auguriamo che lei magari ci faccia sapere domani magari alla commissione faccia sapere non ognuno di noi il risultato dell'incontro e se riesce ad avere appunto una data perché le date non sono indifferenti nel nostro caso grazie il consigliere Giorgio Cancelleri sì semplicemente per dire che io spero veramente assessore che il governo sia sensibile a recepire quello che noi abbiamo voluto dire in questa mozione perché la sanità ha bisogno di risposte eccelleri non è che possiamo rifare un nuovo concorso e quindi non utilizzare questa graduatoria per prendere per esempio del personale infermianistico perché ne abbiamo assolutamente bisogno e abbiamo bisogno di metterli nel nostro servizio sanitario alla svelta proprio perché perché bisogna dare risposte sanitarie ai territori tra l'altro questa graduatoria che andava in scadenza e spero che non ci vada dopo che il governo speriamo che recepisca quello che noi abbiamo voluto dire in questa mozione insomma mi era stato segnalato da diversi soggetti che facevano parte di questa graduatoria l'assoluta disponibilità ad essere chiamati per poter dare risposte in termini di servizi ecco quindi questa come dire questo recipimento da parte del governo se ci sarà e ce lo vogliamo augurare va nella doppia direzione quella di portare a lavorare tanti tanto personale sanitario tanti infermieri nella fattispecie a portarli nel mondo del lavoro allo stesso tempo va nella direzione del dare delle risposte il più celermente possibile rispetto ai fabbisogni che abbiamo in questo settore grazie grazie non ci sono altri interventi quindi direi di mettere in votazione i due emendamenti con dichiarazione di voto partiamo dall'emendamento numero 1 cioè con l'indicato con moz 331 barra m1 l'emendamento alla parte espositiva dichiarazione di voto non ci sono ovviamente perché siamo stati chiari apertura della votazione chiusura della votazione favorevoli 20 21 favorevoli 21 contrario di nessuno astrenuti nessuno il primo emendamento approvato secondo emendamento moz 331 barra 2 dichiarazione di voto non c'è apertura della votazione chiusura della votazione favorevoli 20 contrario di nessuno astrenuti nessuno il secondo emendamento approvato mettiamo in dichiarazione di voto la mozione così come è stata emendata ci sono interventi di dichiarazione di voto non li vedo no c'è la dichiarazione di voto del capogruppo del Movimento 5 Stelle Marta Ruggeri prego grazie presidente io volevo annunciare il voto naturalmente a favore del Movimento 5 Stelle noi insieme ai colleghi del Partito Democratico abbiamo partecipato davanti a Palazzo Leopardi il 20 di febbraio alla manifestazione indetta dai sindacati confederali abbiamo ascoltato le parole dell'assessore Saltamartini che ha ripetuto anche oggi in aula e quindi mi fa piacere che ciò che ha detto quel giorno sia concretizzato oggi da un voto favorevole anche da parte della maggioranza di cui naturalmente apprezzo anche gli emendamenti e le proposte migliorative che sono state suggerite quindi oltre ad avere sottoscritto la mozione insieme ai colleghi del Partito Democratico ho votato favorevolmente gli emendamenti e così farò anche del testo che andrà in votazione tra poco così emendato grazie grazie passiamo passiamo all'interrogazione numero 693 dei consiglieri Carancini Vitri Casini Mastro Vincenzo Biancani chiusura 14 ospedali SSR servizio sanitario regionale risponde l'assessore Filippo Saltamartini assessore la risposta riguarda l'interrogazione 693 Presidente l'interrogazione è una interrogazione diciamo così abbastanza sui generis perché chiede di verificare di acclarare che l'assessore è in parola io dovrei affermare in dichiarazioni pubbliche secondo l'interrogante la verità io vorrei precisare innanzitutto che da sempre ho prestato un giuramento di fedeltà alla Costituzione la quale l'articolo 54 stabilisce che le cariche pubbliche devono essere onorate con disciplina e onore quindi veniamo adesso ai temi quindi non farò polemiche con l'interrogante Carancini e mi limiterò ad illustrare i fatti obiettivi oggettivi inconfutabili nella interrogazione la prima domanda che viene posta relativamente ad alcune dichiarazioni rese in occasione dell'apertura dell'ospedale e riapertura dell'ospedale di San Socorvaro quali sono i 14 ospedali che sarebbero stati chiusi allora i 14 ospedali che con delibera della giunta regionale 735 del 2013 furono trasformati da ospedali di zona con posti letto per acuti e riconvertiti in case della salute sono esattamente l'ospedale di San Socorvaro San Soferrato Cagli Fossombrone Chiaravalle Cingoli Loreto Recanati Tolentino Treia Matelica Montegiorgio e Sant'Elpidammare con successiva delibera 139 del 2016 queste case della salute di tipo C sono state ridefinite in ospedali comunità ora sappiamo che negli ospedali comunità ci sono dei servizi di prossimità cure intermedie ma non ci sono posti per acuti alla seconda diciamo così interlocuzione presentata vagamente all'interrogazione non è la prima volta che nel suo ruolo di assessore regionale con dare che la sanità fa esplicito e pubblico riferimento alla presenuta e mai avvenuta chiusura di ospedali del territorio e in particolare qua l'assessore della sanità dall'inizio del suo mandato ha ripetutamente dichiarato che sarebbero stati smantellati gli ospedali di Camerino Civitano Amarche quando la stessa conferenza dei sindaci al contrario aveva votato il totale mantenimento dei servizi allora cerchiamo di essere chiari nel diritto amministrativo il potere amministrativo viene allocato secondo il principio di legge è la legge che stabilisce quale ente esercita un potere l'assemblea dei sindaci non ha nessun potere di organizzare nulla né di strutturare la costruzione di ospedale né di modificare nulla l'assemblea dei sindaci ha semplicemente il potere di esprimere un parere sui bilanci preventivi consuntivi e così via nel 2017 quando l'allora sindaco di macerata convocò questa assemblea non c'era nessun atto regionale che prevedesse la realizzazione dell'ospedale di macerata più tardi e quindi questo dimostra in modo inequivocabile quanto viene attribuito allo scrivente come invece l'intenzione fosse esattamente quella di mistificare i fatti attribuendo alla conferenza dei sindaci del 2017 il potere di individuare o di realizzare un ospedale a macerata e relativamente alla presenza o alla sussistenza dell'ospedale di Civitanova e di Camerino basti questa osservazione quando successivamente in prossimità delle elezioni comunali fu avviato un percorso da parte del direttore dell'area vasta di macerata che non ha il potere di conformare o di stabilire quali ospedali realizzare fu individuato con un project financing il nuovo ospedale unico di macerata con 634 posti letto ripeto 634 posti letto per il nuovo ospedale unico di macerata si valuti che attualmente l'ospedale di macerata ha 367 posti quello di Civitanova 189 quello di Camerino 77 posti totale 633 quindi se nell'ospedale di macerata doveva essere realizzato un ospedale unico gli ospedali che venivano i posti letto che venivano considerati erano esattamente la somma precisa tra quelli dell'ospedale Civitanova di macerata e di Camerino questo è un fatto inequivocabile quindi la realizzazione dell'ospedale unico di macerata avrebbe comportato la soppressione o comunque una limitazione dell'ospedale di Civitanova e di Camerino ma questo ormai è storia si valuti poi l'ultima considerazione il sindaco di macerata qui interrogante nei primi anni di questa amministrazione ha più volte rivendicato che l'ospedale di macerata dovesse essere di primo livello l'ospedale di macerata io lo confermo consigliere Garancini non solo è un ospedale di primo livello ma ha delle specializzazioni di secondo livello quindi dopo tanti articoli di interventi sulla stampa in cui si rivendica che l'ospedale di macerata noi confermiamo che l'ospedale di macerata avrà un percorso per migliorare la sua professionalità l'ultima considerazione rispetto alle tante bugie che sono state attribuite al sottoscritto ma che invece dimostrano appunto l'etica con cui Garancini svolge il suo mandato fino ai nostri provvedimenti non c'era un centesimo di spesa per l'ospedale di macerata i 105 milioni di euro più 15 della regione che erano stati assegnati al ministro della salute alla regione Marche erano per intero stati individuati per la realizzazione dell'unico ospedale di Pesaro per macerata non c'era un centesimo aggiungo e concludo che il sindaco Garancini modificando avviando il procedimento di modifica del piano regolatore prevedeva che la nuova area dove si dovesse realizzare il nuovo ospedale era un'area la cui destinazione veniva modificata ma senza imporre il vincolo urbanistico quindi la conferenza non poteva stabilire alcunché non c'era un centesimo per la realizzazione dell'ospedale l'ospedale di macerata è un'ospedale di primo livello tragga lui le conseguenze su chi racconta bugie qui in quest'aula e sui giornali grazie grazie per la replica il consigliere Romano Carancini prego sì presidente grazie cercherò di c'è anche la tv pubblica oggi l'assessore Saltamartini in occasione dell'apertura di Sasso Corvaro ha dichiarato che qui erano stati chiusi 14 ospedali molto puntualmente l'assessore Saltamartini ricorda la delibera 735 del 2013 a cui peraltro come dire di cui facevano parte in quella giunta molte delle forze che oggi qui fanno parte in quella delibera in realtà si stabilivano le nuove case della salute dentro un'articolazione delle A delle B e delle C lui dimentica che in realtà nel 2016 i 13 e non 14 quindi è disinformato ospedali di comunità corrispondevano sostanzialmente alle case della salute C quindi non è stato chiuso niente al contrario diciamo che la giunta di Luca Cerecioli al di là di tutte le attività li ha riaperti gli ospedali sarebbe bello come dire chiedere a Saltamartini se tutto questo fosse vero e che cioè immaginiamo che Luca Cerecioli avesse chiuso i 13 ospedali sono passati due anni e mezzo Assessore Saltamartini ma perché non li ha riaperti perché nella delibera del 2022 la delibera che voi avete fatto a proposito dei presidi ospedalieri non ha riaperto quegli ospedali che Cerecioli aveva chiuso è un bugiardo lei lei è un bugiardo perché le cose sono due o Cerecioli ha riaperto gli ospedali di comunità e questo è vero con la delibera del 2016 e quindi come dire ha detto una bugia dinanzi alla tv pubblica dinanzi alla tv pubblica che purtroppo non ha dato la possibilità di rispondere oppure immaginiamo che lei abbia detto la verità che Cerecioli avesse chiuso i 14-13 perché è disinformato non lo sa neanche lei erano 13 se fosse vero sono passati due anni e mezzo lei si è fatto tronfio del fatto che li avrebbe riaperti ma dove ha riaperto Saltamartini l'ha riaperti lei è un bugiardo un bugiardo patentato siccome mi ha attaccato mi ha attaccato sull'ospedale e siccome qui c'è un consigliere regionale che ha partecipato le elezioni di diritto amministrativo e costituzionale non le faccia a me le faccia come dire nella sua ristretta cerchia la conferenza di area vasta certamente certamente non decide quali sono gli ospedali devo fare silenzio all'assessore gli da un po' fastidio perché non è riuscito a chiudere a riaprire Giorgio Cancellieri i 14 ospedali per esempio assessore Saltamartini e lo dico agli amici del pesarese sono venuti in commissione sanità i cittadini di Fossombrone perché lei non l'ha riaperto Fossombrone perché non ha riaperto i 14 ospedali come dire si gestisce male le sue bugie le voglio dire che affermare affermare che sarebbe ci sarebbe stato solo l'ospedale unico di Macerata chiudendo Camerino e Civitanova è talmente una barzelletta che non la può raccontare è arrivato pure a dire lo dico agli amici lo dico agli amici sono arrivati 55 milioni lo ha detto il presidente Acquaroli lo consulti qualche volta sono arrivati 55 milioni per l'ospedale di Macerata lo ha detto pubblicamente perché al di là delle condivisioni che non ho col presidente lo ritengo una persona onesta intellettualmente è venuto a dire pubblicamente alla Confarticianato che i 55 milioni per l'ospedale di Macerata arrivavano dalla giunta Cerescioli lei è arrivato stamattina a dire che non c'è un soldo bugiardo bugiardo politico patentato la prego di concludere professore Saltamartini il far fatto personale immagino beh nessun problema se spiega il fatto personale è un diritto di entrambi avere l'intervento per fatto personale silenzio in aula prego io ho avuto anche un'esperienza in consigli comunali al senato della repubblica non è mai successo che dei parlamentari potessero apostrofare bugiardo 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 lei è un incompetente e così via ora io non chiedo che lei intervenga però il rispetto alle istituzioni prevede che ci sia una forma di questa questo modo di procedere io in realtà non ho mai attaccato nessuno in quest'aula ho risposto sempre senza polemica perché ritengo che chi esercita il potere debba essere criticato però questo atteggiamento io credo che travalichi il corretto dibattito istituzionale danneggia l'immagine dell'istituzione perché domani i giornali diranno che noi abbiamo litigato io non ho litigato io ho esercitato legittimamente il mio diritto di esprimere il mio pensiero e ritengo che la dignità delle istituzioni si misuri anche dal valore e dal significato delle parole ripetere con questa vemenza questa frase penso che oltrepassi i limiti dentro cui il diritto di critica può essere esercitato ma naturalmente non svolgerò nessun tipo di azione né di tutela in altre sedi che possono essere ammissibili perché ritengo di dover chiedere ai colleghi dell'opposizione che la continenza fa parte comunque della capacità dell'istituzione di confrontarsi liberamente grazie consigliere grancini per la replica del fatto personale dell'assessore sì non so quale sia il fatto personale perché dire che uno è un buciardo politico non è un fatto personale è una critica giustamente non abbiamo litigato Salta Martini ha detto ha raccontato pubblicamente dinanzi alle tv tra l'altro quella pubblica che si sarebbero che erano stati chiusi i 14 ospedali non è vero non è vero a meno che a meno che sia vero fatto salvo quello che è stato riferito e oggi mi dovrebbe dire perché non le ha riaperti gli altri 13 ospedali dopo due anni e mezzo le cose sono due sulla vicenda delle risorse dell'ospedale di Macerata c'è addirittura come dire un affronto mi verrebbe a dire qui ci sono i consiglieri gli assessori io facevo il sindaco e so bene quello che è avvenuto ma lo sa anche il presidente Acquaroli perché Acquaroli è venuto a Macerata in confartigianato a parlare di sanità e ha detto onestamente come stavano le cose oggi ci sono 55 milioni per l'ospedale di Macerata è una delibera assunta dal ministero nel 2021 se voi andate a vedere il decreto ministeriale fa riferimento alla colle che è stata fatta dal ministero per gli ospedali c'è l'indicazione presidio unico ospedaliero di Macerata nella cosa quindi dire sostanzialmente che questi soldi non c'erano guardate il vero tema è che noi stiamo qui praticamente nessuno lo racconterà in giro ma è veramente è sfacciato affermare questo perché io posso criticare come dire una giunta o un'indicazione politica ma raccontare una frottola di questo tipo è un'offesa a noi stessi è come se io negassi come dire che è stata fatta una riforma della legge sul modello sanitario è stata fatta appunto è la realtà ma siamo arrivati alla sfacciataggine qui siccome sostanzialmente non ci controlla nessuno non vengono riportate le cose salvo il fatto da riportare perché racconteremo quello che ha raccontato stamattina Saltamartini Saltamartini ha teorizzato è vero che sono stati chiusi gli ospedali nelle Marche 13 e 14 in realtà erano 13 ha teorizzato questo però non ci dice come mai non li ha riaperti in due anni e mezzo e non li riaprirà ma questo è un altro tema fra un po' lo vedremo non li riaprirà quindi come dire c'è un modo sfacciato offensivo per il consigliere regionale si può essere differenti come gli è ma raccontare le frottole cercando di portare in giro non noi ma i cittadini è davvero un affronto è un affronto che onestamente siccome come dire è stato sindaco è una persona che non è che può è davvero è una cosa inaccettabile da ascoltare sarebbe stato sufficiente dire no gli ospedali sono stati convertiti anzi le case della salute i cerecioli li ha fatti diventare ospedali di comunità si può non condividere sì però lui noi siamo come lui sa bene quando fa le elezioni di diritto costituzionale che siamo in potestà concorrente e sa bene che gli indirizzi li dà lo Stato quindi quando il 70 il decreto Balduzzi 70 2015 date le indicazioni siamo purtroppo per fortuna o per sfortuna ho finito presente ecco perché dico che vanno raccontate le cose come stanno i fatti poi sulle opinioni possiamo dividerci grazie io facendo facendo proprio la indicazione prendendo atto quanto è stato detto dall'assessore vi richiamo tutti i presenti all'articolo 72 del regolamento che prevede praticamente che non si può pronunciare parole convenienti oppure che turbino con la loro espressione la libertà di discussione o l'ordine o il contegno da tenere in aula quindi richiamo che faccio a livello generale colgo l'occasione per appunto riportare il dibattito all'essenza stessa del confronto sulla tematica che è stata apposta dall'interrogazione senza andare oltre quindi contenere posizione precisazione risposta e replica e anche esplicitazione del fatto personale della relativa replica quindi vi richiamo praticamente tutti all'articolo 72 passiamo adesso all'ultima interrogazione per l'assessore Saltamartini la numero 706 della consigliera Elezzi interventi volti a promuovere la lingua italiana di segni risponde l'assessore Filippo Saltamartini sì presidente la collega Elezzi pone è una interrogazione molto importante per persone con disabilità particolarmente rilevanti e mi piace ricordare che la necessità e il bisogno che è il servizio sanitario possa garantire alle persone con maggiore bisogno di assistenza sociale e sanitaria sia proprio diciamo così un'esigenza addirittura di ordine costituzionale ciò premesso devo aggiungere che la regione Marche ha un'intensa collaborazione con l'ente nazionale sordi in particolare anche lo stesso presidente Acquaroli ha riconnesso una rilevanza di particolare significato nel rapporto con le persone che hanno questa disabilità tant'è vero che a seguito degli incontri ci sono stati numerosissimi interventi da parte della nostra regione sia dal punto di vista amministrativo con provvedimenti ad hoc e sia addirittura con norme regionali in particolare la legge 5 del 2020 che era stata approvata nella precedente consigliatura quindi c'è una sensibilità istituzionale e politica di particolare riguardo ora rispondendo quindi alla interrogazione devo aggiungere che nell'anno in corso abbiamo programmato una serie di incontri proprio con l'associazione nazionale sordi per impiegare le risorse estanziate in bilancio che ammontano a 40 mila euro in particolare per una richiesta fondamentale che è quella del finanziamento degli interpreti soprattutto per chi ha questo tipo di invalidità diciamo dalla nascita quindi si tratta di soggetti più svantaggiati ed inoltre con riferimento alla richiesta dell'ente nazionale sordi sempre per implementare tutta una serie di corsi formativi che possano avvicinare queste associazioni le persone che hanno questo tipo di disabilità appunto alle strumentazioni ai metodi più approfonditi e più professionali che possano lenire appunto questa condizione in particolare è stato avviato un percorso per il corso di approfondimento dell'interpretariato da remoto per interpreti professionisti che si è svolto nel 2021 quindi noi intendiamo far sì che questi dieci interpreti professionisti che hanno ricevuto un rilevantissimo gradimento nella platea delle persone interessate a questi corsi ebbene questo corso intensivo di primo secondo e terzo livello della LIS che ha visto la frequenza di 20 studenti verrà riproposto anche nel prossimo anno in quest'anno e anche nel prossimo anno ad oggi sulla base degli accordi anche informali che sono stati raggiunti con l'associazione nazionale e sordi la regione Marche è particolarmente impegnata appunto a verificare il riconoscimento di questi percorsi quindi ringrazio la consigliera Elezzi per aver sollecitato questo importante provvedimento la ringrazio se vorrà seguire anche direttamente con l'associazione l'andamento di questo percorso che è stato delineato con atti di indirizzo da parte della giunta alle amministrazioni e ritengo che la nostra regione possa essere più civile nel trattamento di queste invalidità se così lo possiamo definire nei riguardi di queste persone nella misura in cui sarà in grado di garantire a tutti ripeto a tutti queste prestazioni soprattutto di interpretariato e soprattutto il sostegno economico finanziario e la formazione di nuovi interpreti della lingua dei segni è conclusivamente e anche significativamente importante che durante le conferenze le manifestazioni in cui anche la politica il servizio sanitario regionale e tutto ciò che riguarda le iniziative pubbliche possano essere accompagnate da un interprete della lingua dei segni per far partecipare questi soggetti alla più ampia vita sociale economica politica del nostro paese grazie grazie per la replica la consigliera l'indita Elesi Elesi Grazie Presidente ringrazio l'assessore Saltamartini per la risposta molto puntuale e anche soddisfacente quindi mi auguro che tutto il percorso che ha fatto questa giunta anche stanziando dei soldi e finanziamenti nel 2022 2023 che sia anche per l'anno 2024 e 2025 con altri fondi per la promozione e il conoscimento della lingua italiana grazie molto soddisfatta grazie grazie consigliera adesso passiamo all'altra interrogazione che riguardava l'assessore Stefano Avuzzi che era però quella della consigliera Vitri quindi come prima firmataria la consigliera Vitri quindi sostanzialmente viene rinviata perché la consigliera Vitri è ammalata e non è presente giustificata il consiglio regionale di oggi passiamo alla numero 684 di consiglieri Biancani Vitri Mangialardi Bora Carancini Casini Cesetti Mastro Vincenzo iniziativa regionale di contrasto e diffusione della Paesandisia Arcon fra le palme Presidente nel territorio regionale risponde l'assessore Andrea Maria Antonini prego assessore allora buongiorno a tutti l'attività di contrasto alla diffusione degli organismi nocivi e vegetali di nuova o temuta introduzione che costituiscono una grave minaccia per l'agricoltura e per l'ambiente marchigiano è coordinata dal servizio fitosanitario regionale ed include numerosi organismi nocivi regolamentati a livello unionale quali per citarne sono alcuni il tarlo asiatico del fusto ed altri non regolamentati come la cimicia asiatica l'attività relativa alla paesandisia ARCON può essere inserita nell'ambito del quadro delle suddette attività di contrasto con azioni di informazione focalizzate sull'aggiornamento professionale dei tecnici pubblici e privati già in corso di esecuzione come ricordato nella premessa dell'interrogazione nonché con azioni che potranno essere rivolte ai cittadini proprietari di palme con supporto delle autorità locali nonostante la paesandisia non sia più inserita tra gli organismi nocivi regolamentati in ambito dell'Unione Europea il servizio fitosanitario regionale ha sempre dato assistenza alle amministrazioni locali che ne hanno fatto richiesta fornendo informazioni aggiornate sull'avanzamento delle conoscenze tecniche e scientifiche sulle modalità di lotta contro questo temibile insetto prediligendo soluzioni fitoiatriche ambientalmente sostenibili per migliorare il ruolo di supporto agli enti pubblici e alla cittadinanza svolto dal servizio fitosanitario regionale è previsto a breve un suo potenziamento in termini di risorse umane tuttavia per un'azione capillare ed efficace essenziale la collaborazione delle amministrazioni locali che hanno conoscenze approfondite del territorio e delle relative criticità il servizio fitosanitario regionale può fornire un adeguato supporto tecnico alle iniziative territoriali e di carattere locale ad esempio mettendo a disposizione materiale divulgativo specifico per la paesandisia o collaborando alla realizzazione di nuove iniziative divulgative sul territorio nel caso le amministrazioni locali lo ritengono un'eventuale proposta di apertura di un tavolo tecnico sarà pienamente supportata dalla giunta regionale e dall'AMAP l'amministrazione regionale pur essendo disponibile nel fornire le competenze scientifiche e tecniche per incentivare interventi specifici non può operare con interventi fitoiatrici diretti valuterà con la massima disponibilità eventuali progetti territoriali volti a favorire interventi corretti tempestivi e ambientalmente sostenibili condividendo la necessità di salvaguardare il paesaggio urbano Per la replica il consigliere Andrea Biancani Sì grazie Presidente dopo se l'assessore non ha problemi gli chiedo se può darmi la risposta scritta per consentirmi come dire di leggerla con attenzione faccio comunque assessore una proposta nel senso che ho bene la disponibilità a istituire un tavolo tecnico io però chiederei se fosse possibile che sia la regione ad attivarsi attraverso l'AMAP per istituire questo tavolo tecnico perché se aspettiamo i singoli comuni ho paura che alla fine non si faccia niente io ritengo che questo sia un problema importante e quindi anche perché quello che sta succedendo viene completamente alterato quello che è il patrimonio ambientale ecologico ma nel complesso viene modificato anche quello che è il paesaggio urbano complessivo io faccio riferimento ad esempio alla città di Pesaro ma ho visto che anche nella città di Fano ci sono questi viali che in parte sono piante di proprietà pubblica ma molto spesso sono piante di proprietà privata che sono diventati brutti nel senso che vedere queste palme che poi nessuno andrà a rimuovere perché anche i costi per la rimozione sono importanti io ritengo invece che sia più importante riuscire a fare una corretta campagna di formazione di informazione ma con la stessa AMAP che oltre a essere l'AMAP a fare ad attivare il tavolo tecnico deve essere l'AMAP dal mio punto di vista a organizzare sul territorio tutta una serie di eventi e di iniziative di formazione di informazione soprattutto perché soprattutto per quanto riguarda i privati mi sono reso conto che le persone anche perché la Palma ce l'aveva anche faccio un esempio anche un vicino proprio un vicino di casa mia ma mi sono accorto che è dappertutto le persone pensano che sia la carenza di acqua che siano altri problemi poco poco uno non interviene in tempi rapidi invece la Palma che si tratta di piante che hanno 30 40 50 anni e vedere un patrimonio ambientale ma di piante di cui eravamo come dire erano molto diffuse in tutto il territorio soprattutto sulla costa vederlo morire così nessuno che interviene per scarsa sensibilità ma probabilmente anche per scarsa informazione secondo me è un problema che si pone appunto anche dal punto di vista estetico paesaggistico se non oltre anche dal punto di vista ambientale quindi la ringrazio per la risposta se me la dà mi fa una cortesia però rilancio la sua proposta dicendo che secondo me deve essere l'AMAP sia organizzare direttamente sul territorio per il pubblico e per il privato iniziative di formazione di informazione e sia l'AMAP a convocare un tavolo tecnico perché è quello che stiamo perdendo è un patrimonio arborio che ritengo veramente importante grazie un attimo scusate bene grazie adesso passiamo all'interrogazione numero 664 dei consiglieri Cesetti Mastro Vincenzo Mangialardi legge regionale numero 31 2020 disposizione in materia di partecipazione all'allaborazione e alla valutazione delle politiche pubbliche l'assessore Goffredo Brandoni per la risposta grazie presidente con l'interrogazione in oggetto viene richiesto se la regione abbia posto in essere degli adempimenti per il perseguimento delle finalità della legge regionale 31 2020 in materia di partecipazione all'elaborazione e alla valutazione delle politiche pubbliche ed in caso negativo se si intende a dare seguito agli stessi giova a ricordare che non più di 4 mesi fa precisamente in data 3.11.2022 è stata protocollata a firma di 8 consiglieri del Partito Democratico analoga interrogazione nella seduta del 22 novembre lo scrivente ha già dato risposta della stessa in ogni caso ad interrogazione e sviluppo del dibattito assembleare si precisa quanto segue la legge regionale 31-20 è stata approvata in data 21 luglio 20 a seguito dell'iniziativa dei consiglieri Mastrovicenzo Giacinti e Minardi in data 10.2.2020 ossia dopo che la regione aveva definito ed attuato sulla base della propria legge di semplificazione un proprio sistema di elaborazione e di valutazioni delle politiche pubbliche la legge regionale 31 del 2020 non prende in considerazione l'organizzazione esistente ma innesta sull'apparato regionale senza introdurre meccanismi di raccordo procedure partecipative analoghe a quelle già disciplinate in altre leggi regionali uno dei problemi creati dalla legge regionale 31-2020 in altre parole è dovuto al fatto che essa si inserisce nel quadro normativo regionale non come una riforma organica ma come un intervento aggiuntivo è puntuale rischiando di determinare una frammentazione o una duplicazione dell'azione regionale di disseminazione informativa con effetti incoerenti rispetto agli obiettivi di innovazione e di coesione che la stessa legge regionale 31 pone ancora si ricorda che in base alla legge regionale numero 3 2015 è stato costituito il comitato per il controllo e la valutazione delle politiche pubbliche costituito in modalità paritetica presso l'assemblea legislativa e questa è la principale sede istituzionale in cui dare attuazione ai principi in materia di partecipazione democratica di valutazione delle politiche pubbliche in caso contrario si rischierebbero sovrapposizioni e parcializzazioni caotiche se non fuorvianti in ogni caso si ricorda che la regione applica norme coerenti con i principi e le finalità partecipative ai sensi delle vigente norme ad esempio la legge regionale 3 2015 innovazione e semplificazione amministrativa la legge regionale 15 2021 tutela dei consumatori utenti la legge regionale 22 2021 osservatorio e tavoli sul commercio e sui prezzi la DGR 507 2022 piano integrato attività e organizzazione la DGR 1259 2022 ufficio relazioni con il pubblico eccetera inoltre sono molteplici e frequenti oltre i percorsi normativi standardizzati le istituzioni e gli avvii di tavoli territoriali di coordinamento di confronto con i corpi intermedi di concertazione con enti sindacati e associazioni nella programmazione e nell'attuazione delle principali politiche pubbliche regionali tutto ciò precisato non si può da ultimo annotare la mancata sottolineatura da parte dei consiglieri interroganti peraltro sempre attenti al dettaglio legislativo di un aspetto importante infatti se l'articolo 6 comma 1 della legge regionale elenca le funzioni assegnate alla giunta è lo stesso articolo al comma 3 che precisa come tutte le azioni incluse quelle di formazione e promozione della cittadinanza attiva sono state adottate sulla base di indirizzi approvati dall'assemblea legislativa in altre parole senza indirizzi dell'assemblea legislativa la giunta non ha le condizioni normative per poter attuare le principali previsioni di legge in termini di elaborazione divulgazione e promozione dei processi partecipativi tali indirizzi preliminari sono quindi necessari per definire con chiarezza le azioni finalizzate allo sviluppo di tali processi per induare gli ambiti e le competenze gestionali di uffici e funzionari per definire e qualificare i soggetti destinatari degli stessi anche i contributi regionali senza i suddetti indirizzi non sembra si possano correttamente definire stanziare a meno di creare confusione e di allocare risorse pubbliche in assenza di una logica programmatoria e in contrasto con le previsioni di legge ad ogni buon conto ad oggi non è pervenuta alcuna istanza da parte di enti responsabili ne sono stati comunicati dagli enti locali processi partecipativi da valorizzare concludo l'amministrazione regionale ha lavorato e lavora in un'ottica sussidiaria di partecipazione in coerenza quindi con la legge regionale tuttavia le politiche si attuano in maniera corretta nel rispetto delle procedure in un quadro coordinato e coerente in tale prospettiva si osserva le politiche pubbliche da sviluppare possono ottenere più che alla fase di coprogettazione di coproduzione dei servizi in un'ottica di gradualità di circolarità alla fase di rendicontazione di valutazione dei risultati ottenuti ciò consentirebbe anche di attivare eventuali azioni correttive di supporto alle politiche pubbliche è in questa direzione che possono essere ottenuti i risultati più interessanti grazie il consigliere Cesetti per la replica sì grazie presidente io ringrazio comunque Brandoni per la risposta che però non non mi soddisfa in alcun modo perché è una risposta come sempre tecnica burocratica quando invece le interrogazioni molto spesso pongono dei quesiti e sono atte dirette a provocare delle risposte politiche perché qui invece è una questione burocratica l'assessore ci ha spiegato perché questa legge di fatto non sarebbe attuabile non sarebbe attuabile ci ha spiegato i motivi per i quali questa legge presenterebbe diciamo delle lacune operative rispetto agli obiettivi che si vuole prefiggere se così è e non ho motivo di non credere alle osservazioni dell'assessore perché evidentemente anche se tecniche saranno state evagliate ma se così è la legislazione la si cambia la legislazione la si cambia la si modifica la si abroga se si vuole perché quante volte noi vediamo che ad esempio governi diversi che si succedono in un'istituzione fanno un'operazione se vogliamo dire styling diciamo normativo quindi quindi si modifica si integra e altrimenti altrimenti la si deve invece la si deve invece attuare perché con questa legge sostanzialmente noi si partiva da un concetto di fondo che la partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche rappresenta un elemento imprescindibile per assicurare una governance efficace dei complessi problemi sociali ambientali economici che le amministrazioni pubbliche e di governi debbono affrontare e risolvere e proprio con questa consapevolezza che appunto la legge 31 del 2020 ha introdotto disposizioni per la valutazione delle politiche pubbliche per promuovere disciplinare processi partecipativi in funzione di codecisione nel territorio regionale al fine di incrementare la qualità democratica sostenere l'innovazione sociale istituzionale favorire la diffusione delle opinioni informate e l'accidenanza attiva rafforzare la questione sociale valorizzare i saperi e le competenze presenti nella società e noi sappiamo di quanto questo oggi costituisca non soltanto una opportunità ma anche una necessità di fronte ai gravi problemi del nostro tempo d'altra parte la regione Marche come tutte le regioni si occupano di questioni fondamentali proprio in legislazione concorrente di cui parlavamo prima pensiamo noi alla sanità innanzitutto alla sanità e al sociale pensiamo alle politiche del lavoro con connessa formazione e la sicurezza nel lavoro e per il lavoro pensiamo alla valorizzazione della tutela ambientale dei beni culturali e chi ha più ne ha più ne metta basta soltanto lo ricordo a me stesso il 117 comma terzo della nostra Costituzione che appunto delinea in modo chiaro quale sia la legislazione concorrente dinanzi tra l'altro ad un dibattito nazionale e purtroppo il tempo è tiranno dinanzi a un dibattito nazionale che vuole anche allargare il fronte dell'autonomia delle regioni allora dinanzi a tutti questi temi è evidente che raccogliere quelle che sono le istanze che provengono dalla società attraverso un procedimento di partecipazione non è soltanto un dovere e una necessità ma io credo che costituisca una opportunità appunto per la elaborazione e la valutazione delle politiche pubbliche in definitiva Assessore nel ringraziarla comunque ancora una volta per la risposta io ecco la invito ad un'ulteriore riflessione su questo tema poi magari ci torneremo affinché possa apprezzare tutta la forza di questa legge appunto la legge 31 del 23 luglio 2020 e se del caso se come dice lei la si corregga questa legge quante volte lo facciamo oppure altrimenti si dica non è utile e la si abroghi però ecco in questa direzione credo che non possiamo lasciarla accantonata accantonata da parte e silente perché la legge per un'istituzione come la Regione è diciamo la principale delle prorogative quindi ecco farlo e porre in essere appunto gli adempimenti per il perseguimento delle finalità della legge stessa e attraverso anche se del caso una modifica della stessa grazie consigliere passiamo all'ultima interrogazione sempre che riguarda l'assessore Goffredo Brandoni è la 681 dei consiglieri Ruggeri Cesetti quali iniziative conseguenti all'approvazione della mozione numero 207 nella strada del consigliere regionale del 15 marzo 2022 per fermare l'attacco alla gestione pubblica dei servizi locali contenuto nel decreto legislativo 201 2022 risponde l'assessore Goffredo Brandoni prego grazie presidente spero di non sforare ma sono tre pagine purtroppo con l'interrogazione in oggetto viene richiesto se la regione intenda promuovere la questione di legittimità costituzionale dell'ex articolo 127 secondo comma della costituzione avverso le disposizioni del decreto legislativo 201 2022 per presunta lesione della sfera di competenza regionale e degli enti locali relativamente alla disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica tali normi introducono tra l'altro obblighi di verifica dalla convenienza degli affidamenti in aus e promuovono il ricorso al mercato al fine di rendere più efficienti i servizi pubblici locali ciò si osserva sarebbe in contrasto con il principio del riconoscimento dell'acqua quale bene primario indispensabile per la vita e patrimonio pubblico da tutelare l'interrogazione viene proposta in riferimento alla precedente mozione 207 22 con la quale il consiglio regionale aveva deliberato di agire affinché nel disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 21 2021 chiaramente fossero salvaguardate le prerogative le competenze delle regioni e degli antilocali in proposito appare opportuno per emettere che la volontà popolare tesa a mantenere una gestione pubblica del servizio idrico era emersa con un voto referendario favorevole fin dal 2011 tale volontà popolare non sembra sia stata pienamente rispettata infatti prima con il decreto legge 133 del 12 settembre 2014 convertito in legge 11 novembre 2014 numero 166 sono state dettate le disposizioni che hanno portato alla formazione di ambiti territoriali in area vasta nei quali sono stati individuati gestori unici in base a requisiti strutturali minimi normativamente prescritti successivamente il comma 2 dell'articolo 192 del decreto legislativo 50 2016 proseguendo su tale linea ha introdotto un obbligo di motivazione rafforzata per gli affidamenti in house in quanto prevede che la pubblica amministrazione sia tenuta a fornire specifica motivazione sia per quanto riguarda la sussistenza dei requisiti del controllo analogo sia per la convenienza economica in relazione agli obiettivi di efficienza economicità qualità del servizio ottimale impiego delle risorse pubbliche anche l'articolo 5 del decreto legislativo 175 216 per la società partecipazione pubblica pone un analogo onere di motivazione analitica rafforzata nella giurisprudenza risulta assodato che l'in house providing riveste carattere eccezionale rispetto all'ordinaria modalità di scelta del contraente sul mercato ed è attivabile solo se sussiste una reale dimostrata convenienza per l'amministrazione qualora invece le condizioni economiche offerte dal mercato siano più conveniente allora l'in house non è esperibile vedi consiglio di stato numero 181 del 27 gennaio 2020 consiglio di stato 17 dicembre 2015 numero 57 32 la corte costituzionale afferma la potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza riconosce la legittimità dei vincoli distrittivi in materia di affidamenti in house nella logica della tutela della concorrenza per la cui normativa contestata con l'interrogazione si fonda su un quadro normativo giurisprudenziale ben solido vedi sentenze numero 100 del 2020 e 218 del 21 appaiono dunque molto limitati margini per un ricorso alla corte costituzionale stante il delineato assetto di competenze e considerato che il decreto legislativo citato rientra nei limiti della delega su aspetti di competenza statale occorre anche rammentare che l'intervento normativo rientra nel PNRR che elenca tra le riforme abilitanti la normativa sui servizi pubblici locali con finalità di promuovere dinamiche competitive che possano assicurare la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni nell'interesse primario dei cittadini e utenti il piano prevedeva infatti entro dicembre 22 sia l'approvazione della legge della concorrenza 2021 sia l'entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi di diritto derivato e quindi anche del provvedimento in esame per l'effettiva attuazione e applicazione delle misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2021 la commissione europea con la comunicazione relativa all'approvazione del piano italiano prevede tra l'altro che la riforma deve mirare ad affrontare i problemi del settore idrico in Italia che si protraggono da tempo e che si riflettono in molte procedure di infrazione in corso per inosservanza dalla direttiva 91 barra 271 cede il consiglio in un'eccessiva frammentazione del settore nell'assenza di incentivi e politiche tariffarie adeguati la componente 4 dedicata alla tutela del territorio dalla risorsa idrica dalla missione 2 rivoluzione verde transazione ecologica prevede investimenti infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico per la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua compresa la digitalizzazione monitoraggio delle reti le fognature e la depurazione per i complessivi 3,5 miliardi di euro dal contenuto alla misura emerge quello che deve essere il punto centrale del servizio pubblico e cioè le prestazioni utilità consistenti in servizi e resa la collettività mediante la promozione di dinamiche competitive la correlazione tra valori sociali e concorrenza in particolare nei servizi pubblici locali emerge anche dalla recentissima modifica all'articolo 41 della costituzione così come dagli atti europei che si occupano dei servizi di interesse economico generale espressione che indica la categoria dei servizi pubblici il decreto in esame è emanato in attuazione dell'articolo 8 della legge 5 agosto 2022 118 che reca la delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi di ordino dalla materia dei servizi pubblici locali il decreto risponde ai seguenti principi direttivi i servizi pubblici locali sono riconducibili dalle funzioni fondamentali di comuni province e città metropolitane per favorire o organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici per la soddisfazione delle esigenze delle comunità locali i servizi pubblici inoltre locali consistono in attività di interesse generale che possono realizzare la coesione sociale e territoriale la mera presenza sul territorio dei servizi pubblici locali non è sufficiente perché se ne devono garantire i risultati in termini di accessibilità continuità universalità qualità e non discriminazione siamo all'ultima parte per arrivare alla realizzazione dei richiamati obiettivi possono individuarsi quattro linee fondamentali da seguire tanto nella disciplina legislativa che nella conseguente attenzione amministrativa a sussidiarietà differenziazione ad adeguatezza b approfondito confronto tra le possibili soluzioni illustrando le ragioni della scelta della forma di gestione c pubblicità e trasparenza nella fase della scelta nella fase di espletamento delle gestioni dei servizi pubblici l'ultimo di rafforzamento e diffusione del ricorso al principio di concorrenza pertanto il legislatore delegato si è mosso all'interno della delega e di tutti gli atti di cui si è descritto in estrema sintesi contenuto in tema di omeneri e adempimenti a carico degli antidocali nel dossier dei lavori parlamentari si annota che la formulazione normativa ricarga in larga parte quella analoga al contenuto dell'articolo 192 del codice dei contratti pubblici che già attualmente impone un onere rafforzato per il legittimare il ricorso all'in-house providing in proposito la Corte Costituzionale nella sentenza 100 del 2020 ha segnalato che il maggior rigore contenuto nell'articolo 192 per gli affidamenti in-house non si pone in contrasto con la disciplina europeo che essendo diretta a favorire l'assetto concorrenziale del mercato costituisce solo un minimo inderogabile da parte degli Stati membri ultima osservazione la giurisprudenza costituzionale ribadisce il necessario coinvolgimento del sistema dell'autonomia territoriale in particolare con lo strumento della previa intesa in sede di conferenza Stato-Regioni ovvero conferenza unificata laddove il decreto delegale intervenga su ambiti di competenza regionale connessi con competenze statale l'atto quindi è stato sottoposto alla conferenza unificata che ha rilasciato l'intesa e il parere come richiesto all'articolo 8 dalla legge delega sullo schema di decreto in data 30 novembre 22 sullo schema di decreto sono postati resi i pareri alla Camera dalla prima commissione a parere di conclusione mancano due periodi favorevoli con osservazioni seduta il 14 22 e della quinta commissione bilancio il legislatore si è quindi mosso nei limiti dalle leggi delega e dei principi costituzionali vedi sentenze 26 del 67 56 del 65 e 129 del 1963 inoltre le norme rispondono i critori che hanno ispirato il legislatore delegante vedi sentenze del 93 del 70 in conclusione sulla base di quanto è esposto non appaiono sussistenti presupposti per avviare iniziative giudiziarie nel senso descritto dall'interrogazione le questioni sollevate dall'interrogazione sono complesse e articolate pertanto questa esposizione per rispettare i tempi assagnati sarà necessariamente sintetica resto ovviamente a disposizione per eventuale chiarimenti grazie scusate no ci mancherebbe abbiamo permesso la deroga molto molto lunga proprio perché la risposta era molto molto tecnica non aveva quindi un carattere di sinteticità legata praticamente alla posizione della giunta in particolare dell'assessore Goffredo Brandone o comunque del suo assessorato per la replica per primo la consigliera Marta Ruggeri prego lei la parola grazie presidente grazie assessore per la sicuramente lunga risposta che però mi vede profondamente delusa per due motivi il primo motivo è che evidentemente rispetto a quando è stata approvata la mozione 207 ed era il 15 marzo 2022 quest'aula ha cambiato idea anche l'orientamento della giunta è cambiato perché di colpo ci siamo ritrovati a far parte di una giunta marchigiana che è a favore della gestione privata dei beni pubblici quindi di acqua e di rifiuti cosa che invece sembrava diversa e secondo perché quindi è stata approvata una mozione che viene completamente disattesa oggi perché è stata approvata all'unanimità e ci torno su assessore perché lei a quell'epoca non c'era e quindi ci tengo a che abbia ben chiara la situazione questa interrogazione nasce proprio dall'approvazione all'unanimità da parte di questo consiglio regionale in data 15 marzo 2022 della mozione 207 questa mozione impegnava il presidente della giunta regionale a glielo leggo promuovere qualora l'articolo 6 del disegno di legge 2469 venga approvato definitivamente dalle camere la questione di legittimità dinanzi alla corte costituzionale quindi semplicemente chiedevamo che fosse applicata una mozione siccome ormai è d'abitudine respingere le mozioni dell'opposizione questa volta era passata l'unanimità mi aspettavo che ci fossero atti conseguenti invece non ci saranno quindi l'interrogazione muove appunto dalla considerazione che il 30 di dicembre del 2022 è stato pubblicato nella gazzetta ufficiale il decreto legislativo 23 dicembre 2022 numero 201 sul riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica che attua appunto il disegno di legge 2469 la legge annuale per il mercato e la concorrenza del 2021 come previsto nell'articolo 8 della legge di delega 118 del 5 agosto del 22 il contenuto del decreto legislativo attua puntualmente quanto previsto nel disegno di legge che già questo consiglio regionale ha censurato in tema di restrizione dell'autonomia della regione e degli enti locali nella nuova disciplina della modalità di gestione dei servizi pubblici locali introducendo numerose prescrizioni e doneri impropri e discriminatori che di fatto penalizzano la gestione pubblica in house dei servizi fino a scoraggiare gli enti che ad oggi adottano questa modalità di gestione torno a dire che questo consiglio regionale ha censurato i contenuti di questo disegno di legge già nel marzo scorso quindi il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica disposto dallo Stato con questo decreto infatti relega la gestione pubblica dei servizi come straordinaria e residuale questo l'ha detto anche lei prima mentre l'affidamento al mercato rappresenterebbe la normalità secondo la logica dettata dal disegno di legge che il decreto legislativo ha inteso attuare tutto ciò ha lo scopo di incentivare ricorso al mercato nell'affidamento dei servizi e quindi l'affidamento a gestori privati di tutti i servizi pubblici incluso il servizio idrico integrato ed il servizio di igiene urbana con il pretesto di una presunta maggior tutela della concorrenza e dell'economicità dei servizi è vero invece l'esatto contrario concorrenza ed economicità si tutelano con gli appalti di forniture lavori e servizi mediante procedure di evidenza pubblica e le società di gestione in house sono tenute per legge ad operare mediante appalti nel libero mercato mentre le società private una volta vinta la gara per la gestione dei servizi utilizzano i fornitori che vogliono caricando i costi aggiuntivi sulle bollette dei cittadini le disposizioni introdotte pertanto rappresentano un attacco alla gestione pubblica dei beni comuni in particolare l'acqua e quindi ai diritti delle persone e delle comunità il decletto legislativo 201 del 22 in evidente contrasto con la legge regionale 30 del 2011 e presenta vari e marcati profili di violazione della carta costituzionale in quanto lede la sfera di competenza delle regioni insisto nel chiedere alla giunta di onorare l'impegno conseguente a quanto già deliberato da questa assemblea legislativa con l'approvazione della mozione 207 del 15 marzo promuovendo la questione di legittimità costituzionale ex articolo 127 comma 2 della costituzione entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente forza di legge quindi entro domani perché i termini sono praticamente scaduti e in corner siamo riusciti a discutere questa interrogazione preciso che la regione è legittimata a proporre l'impugnativa non solo per la lesione diretta subita dalle norme contestate ma anche per la lesione delle prerogative costituzionali dei comuni quando a seguito della compressione della loro sfera di attribuzione ne ne arrivi una compressione dei poteri della regione come avviene esattamente in questo caso quindi assessore sono veramente delusa e penso che insieme a me sia deluso anche il consigliere Cesetti che ringrazio per aver sottoscritto questa interrogazione mi spiace tantissimo che non possa intervenire perché il suo apporto sarebbe stato sicuramente molto utile ringrazio quindi il partito democratico che firmando questa interrogazione dimostra di essere ancora convinto che quella mozione approvata a marzo abbia validità e che quindi bisognerebbe contrastare anche con un ricorso alla corte costituzionale questo decreto legislativo 201 invece devo notare che purtroppo la maggioranza ha cambiato idea e la giunta non farà quello che tutti insieme tutti i partiti politici l'hanno impegnata a fare e assessore lei non c'era l'hanno messa qui a risponderci e purtroppo deve prendersi le nostre reprimende rispondendo evidentemente alle inadempienze di qualcun altro resta il fatto che così si delegittima tutta l'assemblea legislativa grazie grazie bene adesso passiamo al punto successivo dell'ordine del giorno e il punto 2 riguarda le nomine abbiamo due lezioni da fare la prima lezione riguarda un componente del consiglio dirittivo dell'associazione università per la pace articolo 15 comma 5 della legge regionale 18 giugno 2002 numero 9 articolo 12 comma 6 dello statuto ente di liberazione dell'assemblea legislativa regionale 125 del 14 luglio 2009 e successive modificazioni il voto per ciascuno del consigliere è limitato a 1 ricordo appunto che ciascun consigliere può votare un solo nome che l'assemblea legislativa nel votare prende atto delle risultanze istruttorie comprese quelle contenute nel parere della prima commissione assembleare dell'accertamento relativo alle cause di inelegibilità e di inconferibilità dei candidati indico la votazione a scrutinio segreto chiamo quindi due il segretario anzi il consigliere Marco Marinangeli a procedere alla chiama grazie consigliere a lei la parola allora se siamo pronti procediamo con la prima chiama attendiamo la distribuzione delle schede e poi procediamo allora Acciarri Monica non c'è Acquaroli Francesco Assenti Andrea non c'è Ausili Marco Baiocchi Nicola Biancani Andrea non c'è Andrea Bilò Mirko Bora Manuela una scheda per la consigliera Bora Borroni Pierpaolo Cancellieri Giorgio Carancini Romano Casini Anna Cesetti Fabrizio C'è Ciccioli Carlo Carlo c'è Elezzi Lindita Latini Dino Livi Simone Lupini Simona non c'è Mangialardi Maurizio Marcozzi Jessica Marin Angeli Marco lo chiamiamo più tardi Marinelli Renzo Mastro Vincenzo Antonio Menghi Anna se qualcuno va da Menghi Anna diciamo grazie Pasqui Gianluca Puzzo Andrea non lo vedo Rossi Giacomo Ruggeri Marta Santarelli Luca Santarelli Luca ci dovrebbe essere Ser Filippi Luca e Vitri Michela non c'è non c'è allora intanto procediamo con il secondo con la seconda chiama allora procediamo con la seconda chiama Acciarri Monica non c'è Acquaroli Francesco sì ho votato Assenti Andrea non c'è Lupini Simona non c'è Mangialardi Maurizio Marcozzi Jessica Puzzo Andrea ecco l'Andrea non c'è Rossi Giacomo che non c'è e Vitri Michela Michela non c'è Simona Lupini la facciamo votare sì si allora un attimo che è 1, 2, 3, 4, aspetta vediamo quanti non hanno votato, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 31, ok. Dovremmo avere quante schede? 25? Allora abbiamo 25 schede, 6 non votanti, ecco, allora 1, 2, 3, 4, 5, qui non c'è niente, 5, 1, 5, 2, 6, 5, 2, 6, 2, 6, 3, 7, 3, 8, 3, 9, 3, 9, 2, 10, 2, 10, 2, 10, 3, 11, 12, 15, 10, 2, 10, 2, 10, 2, 10, 3, 11, 12, 15, 16, 5, 17, 5, 18, 5 18, 6 18, 6 19, 6 26 26 26 Allora, vediamo, contiamo se sono Deve essere bianchi Sì, devono essere 6 1, 2, 3 4, 5 6, 7 1, 2, 3 10 12 13 13 13 15 16 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 26 20 20 20 30 6 Bianche Esatto No, aspetta Mi deve essere Involta 25 Contiamo un po' le 30 Le 30 Ah, ecco qui. Sì, sì. Che abbiamo aggiunto dopo. La seconda chiama che sono... Grazie. 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 Indico la votazione, scrutinio segreto e chiedo al consigliere segretario Marco Marinangeli di svolgere la chiama. Attendiamo la distribuzione delle schede. Grazie. Allora. Marcello. Marcello Argentano. No, ne ho. No, no. No, no, no. No, Marcello. Sì. Grazie. 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 Paroli Francesco, Assenti Andrea, Ausili Marco, Bagliocchi Nicola, Biancani Andrea, Bilò Mirko, Bora Manuela, Borroni Pierpaolo, Bora Manuela, Cancellieri Giorgio, Carancini Romano, Casini Anna, Cesetti Fabrizio, Ciccioli Carlo, Carlo Ciccioli, Elezzi, Lattini Dino, Livi Simone, Lupini Simona, Mangialardi Maurizio, Marcozzi Jessica, ha votato, Marinelli Renzo, ha votato, Mastro Vincenzo Antonio, che non vedo, Menghianna, eccola, Pasqui Gianluca, Puzzo Andrea, Rossi Giacomo, Rossi c'è, Ruggeri Marta, Santarelli Luca, Ser Filippi Luca, Vitri Micaela e Marinangeli Marco, Procediamo con la seconda. Puzzo ha votato con la prima. Sì, sì, Puzzo ha votato. Puzzo c'è. Procediamo con la seconda chiama. Acciarri Monica, Acquaroli Francesco, Assenti Andrea, Ausili Marco, Carancini Romano, non c'è, Mangialardi Maurizio, non c'è, Mastro Vincenzo Antonio e Vitri Micaela. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Grazie. 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 8 a 6. Questo ha determinato una concentrazione di deleghe così numerosa che ci sono assessori che hanno addirittura 11 o 13 competenze, che è un numero talmente forte che impedisce di seguire oggettivamente i singoli argomenti, i singoli problemi, le singole legislazioni. È ben vero che l'assessore è supportato dalla squadra, dallo staff e dai servizi, capi dipartimento o responsabili dei servizi e quant'altro, ma anche è vero che molto spesso si richiede la presenza fisica dell'assessore o di un rappresentante di giunta, così come del presidente che molto spesso non può intervenire perché contemporaneamente è impegnato in più convocazioni. La presenza di un sottosegretario va a supplire a questa situazione. La legge che abbiamo fatto è molto equilibrata, è stata anche emendata. Mi sento di ricordare qui che uno degli emendamenti, essendo io il relatore di maggioranza, l'ho seguito con particolare attenzione, uno degli emendamenti, quelli del relatore di minoranza Cesetti, relativamente alle degleghe da poter conferire ai consiglieri regionali da parte del presidente su un determinato e specifico problema è stato accolto, è una legge istituzionale, non è una legge politica. Questa è una legge che qualunque maggioranza possa vincere le elezioni e quindi possa governare, usufruisce di questo ruolo che è un ruolo istituzionale. Io sono totalmente d'accordo, siamo convintamente tutti d'accordo. Aggiungo una cosa specifica, che se fosse stato per me ne avrei messi due di sottosegretari per riuscire a riportare il numero delle collaborazioni di giunta a sei assessori più due sottosegretari. Come ce l'ha la regione Lombardia, per dire. La scelta politica è stata fatta di uno solo, la regione Marche è una regione minore, un milione e mezzo di abitanti, si è ritenuto di fare questa scelta. Le deleghe ai consiglieri regionali, proposta nata dall'opposizione ma condivisa da me personalmente come relatore, ma da tutta la maggioranza, dal capogruppo della Lega Marinelli e da tutto l'intero consiglio credo che sia una scelta equilibrata. Oggi si vota per la seconda volta, così come provvede lo statuto, per far sì che questa proposta diventi poi operativa. C'è l'aspetto che se la carica viene ricoperta da un consigliere regionale, ovviamente rientra negli momenti del consigliere stesso. Se invece la carica è ricoperta da una persona esterna ha un compenso che è estremamente però limitato e quindi anche in questo c'è stata molta sobrietà in questa proposta di legge. Non ho null'altro da aggiungere, credo che tutte le cose sono sempre perfettibili e poi magari in corso dopo la valuteremo eventuali parziali modifiche, però credo che sia una buona legge, è una legge che serve a far migliorare l'attività e l'efficacia della pubblica amministrazione, in questo caso del governo regionale. Adesso la parola al consigliere Pavelizio Cesetti, relatore di minoranza, il quale aveva dato praticamente applauso anche di aver saputo interpretare autenticamente quanto si è svolto o no, nell'ambito del primo esame della proposta di legge circa, diciamo così, gli emendamenti che sono stati presentati e il senso di cui invece l'intera aula voleva andare. Quindi la ringrazio a nome di tutti gli altri componenti di questa sua lealtà nei confronti dell'Assemblea legislativa. A lei la parola. Sì, grazie Presidente. Io prendo atto dei ringraziamenti ma per quel che mi riguarda non c'è stato mai motivo, il segretario generale lo sa, fin dal primo momento di condividere l'interpretazione autentica fornita dalla Giunta per il regolamento che non poteva essere una interpretazione ovviamente diversa. Perché è di tutta evidenza che quando è stato approvato il mio emendamento che prevedeva con la modifica all'articolo 26, se non vado errato, la delega ai consiglieri ed è stato votato dalla maggioranza, è di tutta evidenza che la maggioranza lo ha votato perché sapeva che quel voto non precludeva comunque l'istituzione della figura del sottosegretario. Quindi è evidente che quella era la volontà della maggioranza e quindi quella era la cosiddetta voluntas legis. Io l'ho fatta anch'io propria, correttamente, e non poteva essere diversa perché da parte nostra credo ci siano ampie prove nel dibattito d'aula. Sì, c'è talvolta lo scontro anche duro, ma sempre all'interno della lealtà istituzionale ed anche la lealtà professionale. Questa è, diciamo, una nostra condotta alla quale non riteniamo di dover venire meno. Ciò premesso, appunto, oggi e anche dopo quell'interpretazione della giunta del regolamento, noi ci accingiamo alla seconda lettura della modifica statutaria che appunto prevede, attraverso la modifica appunto della legge numero 1 dell'8 marzo 2005, l'istituzione della figura del sottosegretario. All'esito della prima deliberazione scaturita dalla PDL 138 proposta di legge statutaria all'iniziativa della giunta, appunto, ne scaturì un ampio dibattito sia in commissione sia in aula intorno alla opportunità e appunto alla possibilità di istituire tale figura e di attribuire alla stessa le relative indennità. E la discussione ha riguardato quello che ci ricordava poc'anzi il capogruppo Ciccioli, relatore di maggioranza. È vero, la figura del sottosegretario è presente in moltissime regioni del nostro Paese, è vero pure, come dice il capogruppo Ciccioli, relatore di maggioranza, che la riduzione degli assessori come sappiamo avvenuta con legge la 138 del 2011, se non sbaglio, precisamente l'articolo 14, ha determinato delle difficoltà oggettive per i governi regionali anche all'esito delle diciamo delle tante incombenze delle regioni ed in particolare della nostra regione che appunto si è dovuta misurare, noi anche come ex assessori ne sappiamo qualcosa, si è dovuta misurare prima con la tragedia del terremoto, poi la pandemia e poi la guerra e via dicendo è evidente che in una regione come le Marche il numero degli assessori è un numero esiguo e pertanto la figura del sottosegretario è senz'altro opportuna come figura perché può assumere le deleghe del Presidente, può seguire, può svolgere riunioni, può rispondere in aula e via dicendo. Ed è tanto vero che siamo convinti di questo che io in Commissione, lo sa bene Ciccioli, manifestai diciamo la disponibilità a sottoscrivere anche una proposta di legge di invio alle Camere per modificare appunto le disposizioni dell'articolo 14 del decreto legge 138 del 2011 quindi per aumentare il numero degli assessori. Detto questo appunto nessuna difficoltà col tema del sottosegretario però il tema è questo e questo è il punto centrale. La proposta della Giunta così come approvata in prima lettura da questo Consiglio regionale prevede che il sottosegretario può essere scelto anche al di fuori dei componenti del Consiglio Assemblea legislativa regionale con attribuzione della relativa indennità, con l'assegnazione delle relative strutture di supporto quindi con un aumento dei costi notevoli diciamo a carico della Regione che secondo me neanche quelli sono un problema perché sono costi per la democrazia e per dispiegarsi della democrazia e come tali credo che un'istituzione debba sopportare anche facendo a meno di altri ma il tema è un altro è che appunto questi maggiori costi contrastano con le disposizioni appunto del decreto legislativo numero 138 del 2011 che all'articolo 14 riduce il numero degli assessori appunto per temi connessi al contenimento dei costi e quindi cosiddetto al coordinamento della finanza pubblica quindi questo è il tema il tema non è che noi non siamo d'accordo il tema è che contrasta contrasta con la disposizione con il decreto legislativo numero 138 e quando il relatore di maggioranza ci dice che appunto il numero dei consiglieri, il numero degli assessori è ridotto e noi non dobbiamo dimenticare un particolare però significativo che nella scorsa legislatura è stata introdotta con legge non statutaria perché qui c'è una sentenza della corte costituzionale che mi è stata ricordata più volte dal segretario il quale io prendo atto che l'incompatibilità tra le funzioni di consigliere e di assessore non può essere una disposizione di carattere statutaria ma debba appartenere alla legislazione tra virgolette ordinaria però la scorsa legislatura è stata fatta questa questa legge di cui oggi questa maggioranza se ne è tra virgolette legittimamente avvantaggiata quella che da una parte prevede la cosiddetta incompatibilità tra le funzioni di consigliere dell'assessore e dall'altra prevede la figura del cosiddetto consigliere supplente consigliere supplente questo comporta che cosa come è avvenuto in questa legislatura ad opera di questa maggioranza e legittimamente questo comporta di fatto l'assegnazione di sei figure in più di sei figure in più in questo caso ne sono quattro perché comunque l'assessore brandoni e l'assessore aguzzi sono comunque esterni al consiglio regionale ma comunque ci sono quattro figure in più che potrebbero essere sei figure in più e allora questo dovrebbe soddisfare l'esigenza condivisibile che ci ricorda ciccioli un'esigenza tra l'altro che è stata a no ruggeri consacrata nell'approvazione appunto di quell'emendamento perché quando noi abbiamo quando voi noi abbiamo votato il mio emendamento che appunto prevede prevede che alla lettera c del comma 1 dell'articolo 26 sia sostituita al seguente che il presidente può delegare specifiche attività ai singoli consiglieri regionali il consigliere delegato partecipa alla seduta della giunta senza dritto di voto dove si discute di questioni attinenti all'attività delegate l'essercito della telea non può dar luogo ad alcune indennità eccetera quell'approvazione di questo emendamento doveva quindi soddisfare tutte quelle esigenze che ci ricordava il relatore di maggioranza e ovviamente rendere se vogliamo anche del tutto inutile la figura del sottosegretario figura che comunque ripeto e mi avvio e mi avvio la conclusione anche perché il dibattito è stato più che ampio figura che laddove si ritenesse di mantenere e questo è assolutamente legittimo da parte della maggioranza anche perché ripeto sta anche in altre regioni ma come in altre regioni perché la figura del sottosegretario non deve essere scelta all'interno del consiglio regionale e poi deve essere scelta all'interno del consiglio regionale perché così facendo soddisfa tutti i requisiti che vengono richiesti ma soddisfa anche le condizioni diciamo se vogliamo di ammissibilità adesso non viene un'altra parola perché se è vero che il sottosegretario partecipa alla giunta senza diritto di voto e se alla giunta senza diritto di voto può partecipare appunto il consigliere delegato dopo l'approvazione del nostro emendamento se al consigliere delegato possono essere delegate quelle ingombenze che voi prevedete siano delegate al sottosegretario e allora tanto vale va bene il sottosegretario noi in questo caso voteremo a favore ma lo si scelga all'interno dei componenti del consiglio regionale lo si scelga all'interno dei componenti del consiglio regionale così vengono soddisfatte le altre caratteristiche che diversamente espongono questa legge di modifica statutaria secondo me ai rilievi del governo che a meno che non vuole fare come come dice non sento e non parlo non può ovviamente non impugnare una legge del genere perché ripeto nel momento in cui si prevede che possa essere scelto al di fuori del consiglio regionale con attribuzioni di relativa indennità e di relative e relativa struttura di supporto è evidente che c'è un aggiramento del dl 138 del 2011 e quindi e quindi questo si presta ovviamente si presta ovviamente a rilievi queste cose noi le abbiamo dette le abbiamo scritte in un ordine del giorno che adesso noi andremo a depositare che prevede un altro aspetto e poi mi taccio veramente ed è presidente qui mi rivolgo al presidente del consiglio regionale proprio il richiamo alla interpretazione della giunta per il regolamento per il regolamento che ripeto è stata giusta giusta e puntuale perché comunque era anche la se vogliamo anche era quello che io pensavo quindi è così è così perché quella interpretazione però della giunta del regolamento c'è stata il 25 gennaio 2023 e 23 allora noi sappiamo che questa interpretazione è stata relativa appunto alla votazione dell'amendamento 1 barra 1 sostitutivo dell'articolo 1 dell'articolo 1 noi sappiamo però che le modifiche statutarie in base all'articolo 123 com secondo della costituzione vengono deliberate a distanza di due mesi in uno spazio non minore di due mesi qui chiedo anche attenzione al relatore di maggioranza quindi sostanzialmente il cosiddetto spazium deliberandi di cui all'articolo 123 com secondo della costituzione non minore di due mesi noi riteniamo che debba ricorrere dalla suddetta data del 25 gennaio 2023 dovendo essere interpretata appunto detta disposizione costituzionale come un tempo occorrente per una decisione che sia consapevole che sia consapevole e meditata e nessuna piena consapevolezza vi poteva essere intorno alla mens voluntas legis prima del 25 1 2003 sebbe stato bisogno dell'interpretazione della giunta del regolamento questo è diciamo è un argomento al quanto mi pare al quanto fondato che tratto non si presta ad alcuna capziosità perché noi questo noi sappiamo bene che voi avete avete diciamo il diritto dal punto di vista vostro non condivisibile ad approvare questa modifica statutaria è un vostro diritto noi voteremo contro in questi termini però è un vostro diritto sappiamo che lo farete noi vi diciamo questa è un'opportunità che vi diciamo però rispettate quel cosiddetto spazium deliberandi dell'articolo 123 comma secondo della costituzione che ci dice in tempo non minore di due mesi perché altrimenti potreste esporre voi questa disposizione diciamo ad un rilievo anche questo di carattere costituzionale per violazione di una norma costituzionale quindi noi con questo emendamento che adesso io andrò a depositare ai sensi dell'articolo 99 di non passaggio dell'escursione agli articoli sostanzialmente chiediamo questo adesso io chiederò la firma del capogruppo e poi lo andremo a depositare lo voteremo sappiamo che voterete contro però questa è un'opportunità potrete anche noi per noi va bene se votate contro però quello che vi consiglio comunque di rinviare di rinviare questa votazione per far passare il cosiddetto spazium deliberandi di cui l'articolo 123 comma 2 dei due mesi e farlo ricorda il 25 gennaio dove ripeto rispetto a questo per noi cambia poco se lo fate 15 giorni prima o 15 giorni dopo però che venga rispettato questo tempo per mettere a riparo questa disposizione non condivisibile almeno da quelli che potrebbero essere degli evidenti rilievi sostanzialmente questo rilievo credo costituisca per voi un'opportunità detto questo io adesso lo andrò a depositare e ovviamente come relatore di minoranza concludo per un parere negativo intorno a questa seconda deliberazione per i motivi che prima ho esposto che poi sono gli stessi che sono quelli dell'altra volta ci sono e chiudo veramente ci sono due nostri soltanto due nostri emendamenti che vanno appunto in questa direzione coerenti con quello che ho detto poc'anzi l'uno è l'emendamento soppressivo dell'articolo 2 che prevede appunto la figura del sottosegretario in quei termini cioè scelto anche al di fuori del consiglio regionale e quando il relatore di maggioranza dice viene prevista un'indenità minima questo non è vero ciccioli perché come tu hai detto anche prima la legge rinvia la legge regionale dice fissa l'indenità aspettante al sottosegretario della presidenza del consiglio quindi si rinvia ad una legge regionale successiva siccome si rinvia la legge regionale successiva noi non sappiamo oggi quale sia l'indenità e non è vero che sarà un'indenità minima e questo può essere un'intenzione perché in questo senso c'erano degli emendamenti miei la volta scorsa che sono stati respinti dalla maggioranza l'altro emendamento è quello che sopprime la lettera A del comma secondo dell'articolo 2 quella appunto che preveda che partecipa alla seduta della giunta regionale pur non facendone parte senza diritto di voto voglio sopprimere questo passaggio perché delle due l'una se lo prendete all'interno bene questo si giustifica che partecipa alla giunta senza diritto di voto ma se lo prendete all'esterno non si capisce per quale motivo il sottosegretario che diventa un componente del governo non debba partecipare alla giunta con diritto di voto come tutti gli altri perché altrimenti allora è vero che prevedete questo appunto per aggirare il dettato normativo di cui all'articolo 14 del DL 138 2011 credo di non aver tralasciato nulla e mi scuso un po' per se sono stato lungo ma erano cose che era necessario ribadire grazie bene entriamo nel merito della seconda lettura della deliberazione hai chiesto di intervenire nel merito il consigliere Carlo Ciccioli sì io intervengo nella qualità di relatori di maggioranza cioè io apprezzo spesso il contributo del consigliere Cesetti a volte faccio mie nel caso di un emendamento sulle deleghe consiglieri regionali le proposte del consigliere quindi non c'è assolutamente alcun pregiudizio ma qui mi sembra che andiamo in una discussione che è una specie di cavilleria cavilleria non cavalleria ma cavilleria nel senso di cavillo è un po' quella sensazione che uno invece di fare il legislatore fa la zecca carbuglie allora se noi l'abbiamo approvato il 6 dicembre 22 però non facciamo partire la scadenza dal 6 dicembre perché sono rispetto alla pubblicazione eccetera ci sarebbero necessari altri 15 giorni per riflettere meglio ma il senso politico della decisione è chiaro cioè il senso politico della decisione è che l'istituzione del sottosegretario all'interno di uno schema legislativo che è quello che abbiamo approvato in cui abbiamo accolto alcuni emendamenti invece ho rispinto altri e che va nella direzione di un miglior funzionamento ed efficacia del governo regionale qualunque sia il governo cioè quindi la modifica statutaria lo statuto va oltre il periodo di una maggioranza regionale di una maggioranza consigliare quindi ecco il fatto poi gli emendamenti soppressivi è evidente se uno sopprime sopprime l'articolato aboliamo l'obiettivo che ci siamo dati quindi purtroppo e lo dico ho detto quando c'è da apprezzare e accogliere sono completamente d'accordo quando ci si rende conto che insomma sono argomentazioni capziose e non sono nella sostanza sono nella forma occorrevano 15 giorni in più perché così 15 giorni in più in qualche modo ci facevano riflettere mi immagino uno di noi nel pensatoio che se inginocchiato nel pensatoio si riflette sull'articolato della legge ma ormai è evidente cioè questa è una scelta politica discussa all'interno degli organi della maggioranza della commissione del consiglio regionale non è che è caduta così presentata come qualche volta accade ed è criticabile un atto d'urgenza questo non è un atto d'urgenza che abbiamo dovuto fare capigruppo e poi inalo la dichiarazione d'urgenza è un atto più che consolidato su cui ecco mi appello al buon senso di tutti e chiediamo il voto consigliere Romano Carancini prego sì grazie Presidente intanto io voglio ringraziare Fabrizio Cesetti perché sia in questo passaggio ma anche in quello precedente in prima lettura ha svolto un ruolo credo io e lo interpreto così non di parte al quale peraltro il gruppo consigliare del Partito Democratico diciamo ha aderito pienamente e questo è un primo una prima considerazione che mi piace fare su una legge fondamentale ovviamente con il rispetto delle proporzioni lo statuto voi insegnate che altro non è che altro non sono che altro non è la tavola fondante del rapporto delle marche del rapporto fra i cittadini del rapporto fra i cittadini e le istituzioni ed è una una legge ed è una legge fondamentale che va trattata con riguardo dal punto di vista politico ma anche tecnico e credo che sia una legge che va trattata con particolare riguardo alla razio delle ragioni che sottendono evidentemente emanazione all'approvazione delle norme ecco perché il ringraziamento che voglio fare a Fabrizio Cesetti è quello che incarna in maniera qui non di parte è quello che incarna un po' lo spirito che lo statuto dovrebbe alimentare nella discussione fra noi ecco perché non condivido l'osservazione che faceva il capogruppo di Fratelli d'Italia Carlo Ciccioli circa la questione relativa al formalismo che viene imputato e guardate credo che siano state di argomentazioni già utilizzate nella prima lettura guardate ovviamente con la probabilmente con la convinzione che insomma servirà poco la domanda è quella che faceva Carlo Ciccioli a se stesso retoricamente in senso positivo perché abbiamo fatto questa legge perché modifichiamo lo statuto e questo è il punto centrale e Ciccioli dà una risposta assolutamente condivisibile almeno dal mio punto di vista Ciccioli dice perché che il sottosegretario può certamente essere di sostegno all'attività di governo già ricordo bene cosa sostegni nella prima lettura è che le regole secondo cui in questa regione a svolgere i ruoli di assessori siano solo sei persone è assolutamente incomprensibile inaccettabile ma non è inaccettabile per noi è inaccettabile per i cittadini perché se un assessore ha sette deleghe dico sette forse di più o forse di meno ma comunque è evidente che non riuscirà mai a seguire con puntualità e serietà e se le cose non vengono seguite con puntualità e serietà è evidente che le problematiche certamente possono essere di carattere come dire politico qui dentro fra noi ma non lo sono in termini di approfondimento rispetto ai cittadini questo è il vulnus più grave quindi Ciccioli tornando alla domanda d'origine lo facciamo per aiutare il governo ed è giusto quello che però non si comprende è questo la figura del sottosegretario rispetto ovviamente alla proposizione lo dico per chi magari dovesse ascoltarci la norma che introduce la figura del sottosegretario è una norma plausibile sostanzialmente quello che non si comprende da un lato è come mai non si possa incaricare un consigliere di maggioranza tenendo conto attenzione di quella che è l'elaborazione lessicale del contenuto della norma che voi individuate perché il cuore della norma del sottosegretario è quella la lettera B secondo me può essere incaricato dal presidente della giunta regionale di seguire specifiche questioni anche attraverso la partecipazione ad incontri rettavoli istituzionali e con facoltà di riferire direttamente su argomenti afferenti ai compiti attribuiti guardate che se voi andate a guardare l'articolo 26 che richiama le attribuzioni del presidente questo tipo di incarico può essere stabilmente come dire assimilato a quello che viene dato ai consiglieri delegati allora quale migliore soluzione avrebbe potuto essere quella di poter individuare nella duplice funzione di consigliere delegato e sottosegretario a uno dei consiglieri di maggioranza a me pare una cosa abbastanza lineare secondo elemento secondo elemento riguarda l'indennità è evidente che chi ha compiti compiti di governo debba si debbano riconoscere le indennità però pensandola malevolmente come o meglio pensandola interpretandola in una maniera non rispondente non coerente alla razio come faceva Ciccioli rispetto a Cesetti circa gli asseriti formalismi uno potrebbe dire guardate che voi mettete il sottosegretario la presidenza e il consiglio per occupare una nuova poltrona ora se così è non lo so ma certamente c'è un'interpretazione di questa di questa vicenda in questa linea cioè perché non si pesca dentro le competenze dentro come dire il riconoscimento pubblico che viene dato dall'elezione a uno dei consiglieri regionali rispetto a specifiche tematiche e si va ad attingere fuori ecco perché dico che la razio deve essere coerente in tutti i passaggi ce n'è un altro di elemento critico lo dico perché a mio parere non solo contraddice lo spirito e la razio della norma ma diventa ancora più manifesto fate attenzione la lettera A chiedo scusa la lettera C dice che il sottosegretario alla presidenza del consiglio può essere delegato a rispondere a interrogazioni dinanzi al consiglio regionale io credo che sia illegittima questa previsione è illegittima perché viene colpito colpita la simmetria del rapporto tra il consigliere regionale e l'organo nominato dal presidente della regione rispetto alle proprie deleghe non è pensabile che sia un terzo soggetto ovviamente dentro un ordinamento di secondo grado perché voi sapete meglio di me che il sottosegretario non è non fa parte di quell'ordinamento istituzionale di primo grado come è evidentemente il presidente della regione e gli assessori è assolutamente illegittimo riteniamo noi ma non solo da questo punto di vista si riesce ad avere una anche qui contraddizione in termini fra quelli che avrebbero dovuto essere i consiglieri delegati ai quali non era consentito non sarebbe stato consentito di rispondere in aula rispetto alle interrogazioni in sostanza rispetto alla lettera c dell'introdotto articolo 28 bis dello statuto regionale in una qualche maniera c'è una surroga una surroga non legittima non è pensabile che a un'interrogazione che è un atto politico debba rispondere un sottosegretario a rispondere alle interrogazioni vi deve essere il presidente ovvero gli assessori questo è una regola fondamentale a mio modesto parere ecco perché le ragioni diciamo illustrate da Fabrizio Cesetti sia qui ribadisco anche in passato sono ragioni sono ragioni da ascoltare sono ragioni da approfondire sono ragioni sulle quali riflettere perché ancora una volta e vado a chiudere ancora una volta il partito democratico prova tenta di rapportarsi nella discussione generale in questo caso a maggior ragione considerato che è la modifica di una norma dello statuto dentro un'ottica propositiva non distruttiva costruttiva peraltro riconoscendo come la si definisce la razio è vero che la giunta regionale delle marche in senso astratto così come oggi è ordinamentata è una giunta che non riesce spesso a rispondere a tutte le deleghe ma la risposta che viene data a tutte le deleghe previste ma la risposta che viene data con l'introduzione del sottosegretario alla presidenza del consiglio è una risposta sbagliata se la si vuole andare a rinvenire all'esterno di questo consesso si poteva si sarebbe dovuto prevedere il pieno coinvolgimento dei consiglieri regionali in particolare evidentemente della maggioranza che peraltro come dire lavorano qui conoscono le questioni e in una qualche maniera vengono responsabilizzati sul ruolo così importante lo dico perché come dire oggi può governare la destra chissà quando ritorneremo a governare diventano un ponte un ponte di relazione fra come dire il ruolo istituzionale dei consiglieri regionali e quello della giunta ecco perché penso che è un ripensamento che è una riflessione che non è evidentemente conveniente Cesetti non fa riflessioni come dire di convenienza siamo all'opposizione non abbiamo come dire siamo al primo mandato paradossalmente cerchiamo di contribuire con una intelligenza poca tanta ma con una intelligenza che deve ispirare una discussione che riguarda la modifica dello statuto ecco perché penso che su questo un rapporto come dire allineato simmetrico e di riconoscibilità sarebbe stato opportuno io credo che valga la pena su questo riaprire un confronto grazie grazie non ci sono altri interventi quindi dichiaro chiusa la discussione sulla deliberazione passiamo adesso all'ordine del giorno proposto dal gruppo consigliere del PD che sostanzialmente è stato già esposto dal consigliere Cesetti quello dell'avvio praticamente sì esatto poi le do la parola prego lui la parola per specificare ancora quel punto di partenza dal giorno della riunione della giunta per il regolamento prego sì sì presidente telegraficamente veramente dico al relatore di di maggioranza come si dice che da parte mia nessuna volontà di cavillare ci mancherebbe altro ciccioli né diciamo né tantomeno di fare la zecca garbugli presidente marinelli che volendo marinelli saso fare anche molto bene tra l'altro la zecca garbugli anche nell'accezione più nobile no segretario generale perché la zecca garbugli coniato dal dialetto milanese nei promessi sposi venne poi tradotto nel cosiddetto scioglitore di nodi e se quindi la zecca garbugli è uno sciogliatore di nodi io vado in questa direzione per cercare di darvi una mano diciamo per cercare di darvi una mano sciogliere i nodi nei quali siete purtroppo ahimè incappati vedete termino a noi cambia poco se voi votate questa seconda lettura oggi o la votate 25 il cosiddetto spazio un deliberante del 23 secondo comma 60 giorni 25 gennaio 25 gennaio quindi 24 febbraio febbraio ce n'ha ce n'ha 28 sarebbe 26 marzo sarebbe 26 marzo che pensate che cambia per noi nulla però questo metterebbe a riparo questa legge statutaria non condivisibile da rilievi perché non è il fatto di cavillare non c'entra nulla il cavillare e invece c'entra lo sciogliere il nodo perché e non è un formalismo ciccioli lo voglio dire io non ne faccio formalismi figuriamoci l'articolo 123 questa legge questa modifica della legge statutaria è previsto in un percorso delineato dalla costituzione dallo statuto il 123 secondo gomma ci dice lo statuto regionale appunto è approvato e modificato dal consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta badate bene quindi non è un formalismo però la maggioranza assoluta rispetto a quella relativa a maggioranza assoluta dei suoi componenti con due deliberazioni successivamente successive adottate intervallo non minore di due mesi quindi la maggioranza assoluta la maggioranza assoluta e la deliberazione adottata a distanza non minore di due mesi non divengono e non sono fatti formali ma sono requisiti sostanziali affinché affinché la legge statutaria approvata o modificata possa avere il requisito della legittimità costituzionale è tutto qui tutto qui quindi qua di che cosa di formalismo noi di che formalismo parliamo e tornando al punto e chiudo ovviamente raccomando in questo senso nell'interesse vostro di approvare quest'ordine del giorno quando appunto l'aggiunta del regolamento si riunisce il 25 gennaio perché si riunisce perché doveva interpretare se l'emendamento approvato 1.1 quello che prevede la delega dei consiglieri vedete non tanto l'intervento mio pensate l'intervento di Carrancini che ha fatto sulla funzione della delega dei consiglieri che renderebbe secondo noi superfluo anche l'inserimento del sottosegretario allora se lì ha dovuto interpretare che l'emendamento 1.1 fosse sostitutivo o meno e ha detto che non era sostitutivo quando l'ha detto questo? quindi che era soltanto modificativo del 26 e quella era la cosiddetta mens voluntas legis quando il 25 di gennaio quindi prima di quella data Fabrizio Cesetti neanche Fabrizio Cesetti che era il rappresentatore di quell'emendamento sapeva prima del 25 gennaio se quel voto dovesse intendersi insostitutivo o invece integrativo come è stato interpretato non lo sapeva Fabrizio Cesetti tant'è che ha dovuto aspettare la giunta per il regolamento non lo sapeva Mastro Vincenzo che pure ha votato farevolmente prima di quella data perché altrimenti non sarebbe stato chiamato a votare di riunione non lo sapeva il mio amico Bilò se prima di quella data lo dico perché componente di maggioranza non sapeva se l'emendamento 1 barra 1 dovesse essere inteso sostitutivo e quindi non si poteva procedere dopo alla nomina del sottosegretario ma solo a confermare quella dalla deriva del consigliere oppure se invece era soltanto interpretativo della volontà di modificare l'articolo 26 questo è il punto c'è poco da discutere questo non è un fatto formale questo è un fatto sostanziale che poi io lo esponga e lo dica bene questa diciamo è una mia diciamo è una mia caratteristica dovuta all'impegno che nelle cose ci metto che nelle cose ci metto no? che nelle cose ci metto non perché io abbia questa qualità innata però è così però è così però è così quindi questo è il tema e allora se il centro di trecchiuto prevede al comma 2 che debba intercorrere un tempo non minore di due mesi non minore di due mesi è evidente che questo spazio deve essere interpretato come tempo occorrente lo scrivo come tempo occorrente per una decisione che sia consapevole e meditata no? e nessuna piena consapevolezza vi potrebbe essere intorno alla mense volontas legis prima del 25.1.2003 appunto se vi è stato bisogno dell'interpretazione della giunta per il regolamento signori l'avete detto voi non è che lo dico io adesso diciamo io mi rendo conto chiudo mi rendo conto che diciamo è più semplice interpretare a tutto questo a tutto questo interpretare a tutto questo rispondere con la volontà di cavillare col formalismo un po' meno con la zerca che abbiamo detto è scioglitore di nodi e capisco che è così ma poi sai queste considerazioni come si dice restano restano e domani se poi qualcuno impugnerà l'eventuale l'eventuale nomina o l'eventuale legge il problema è vostro e non sarà certamente del del mio rilievo che appunto non è formale ma è sostanziale come lo sono tutti i rilievi che si basano sul dettato costituzionale allora uno a favore uno contro dunque qui siamo in tema ecco siamo in tema che può essere un intervento solo contrario a questa posizione allora Ciccioli prego no l'ordine del giorno riassume un po' tutte le motivazioni che sono state espletate prima sia dal consigliere Carancini che dal consigliere del relatore di minoranza Ciosetti noi non le condividiamo il problema della data ci sembra veramente un problema un po' surreale cioè che addetti ai lavori quali sono quelli qui questo parlo della sostanza addetti ai lavori come sono consiglieri regionali che formano la legislazione non sono persone sprovvedute che devono aspettare il parere della commissione per il regolamento la commissione a regolamento è un passaggio formale ma il convincimento ce lo formiamo spesso non voglio dire istantaneamente ma sicuro in tempo in molto breve per quanto riguarda le altre articolazioni la nostra legislazione la legislazione italiana è fatta di pesi e contrappesi valuterà il governo se ci sono osservazioni ma io sono convinto fin da ora che il governo non farà osservazioni e quindi credo che possiamo tranquillamente procedere a questa votazione aggiungerei che il precedente atto è stato votato in data 6 dicembre quindi se andiamo da quella data 6 dicembre 6 gennaio 6 febbraio siamo oggi se non sbaglio il 28 mi sembra 28 febbraio quindi ci sono addirittura due mesi e mezzo da quella data poi dice sì ma 15 giorni in più forse avrebbero fatto riflettere ulteriormente io credo che pensieri di tutti i consiglieri regionali sarebbero stati presi da bene altri argomenti che la riflessione su questa norma che tutto sommato è una norma semplice non è una grande norma è l'istituzione di una figura di sottosegretario che completa i sei membri della squadra di governo ne fa la supplenza sia del presidente che dei componenti di giunta quindi sono se sarebbe l'ottavo l'ottava persona in campo che serve a decongestionare uso la parola proprio decongestionare l'attività e le incombenze che sono dei componenti della giunta del presidente non c'è niente di particolarmente rilevante da nessun punto di vista e poi la giunta provvederà il presidente anzi provvederà la nomina come si conviene ovviamente in una persona che dovrà essere disponibile a tempo pieno a supportare quelle che sono le attività di governo quindi credo che da parte di tutti i componenti della maggioranza c'è la fortissima convinzione di rispingere questa risoluzione il consigliere Maggiardi non si può fare ecco no c'era acceso perfetto benissimo allora viene spento allora apriamo adesso come scusi si adesso facciamo le dichiarazioni di voto sull'ordine del giorno andiamo in questo ordine adesso c'è il vostro ordine del giorno dichiarazione di voto sull'ordine del giorno votazione dell'ordine del giorno del gruppo PD poi apertura della discussione sì ma una parola perché altrimenti non riusciamo ecco fatto procedurale presidente è stato presentato l'ordine del giorno dal da Cesetti primo firmatario poi c'è il dibattito sull'ordine del giorno no c'era no valutazione solo il voto uno sì siamo sull'applicazione dell'articolo 99 caso di ordine del giorno di non passaggio è un particolare ordine del giorno in questo no di non passaggio alla discussione degli articoli degli emendamenti durante la discussione generale di ciascun consigliere può proporre un ordine del giorno motivato e diretto a impedire il passaggio all'esame dell'atto che deve essere svolto e votato nelle stesse sedute prima di passare alla discussione degli articoli degli emendamenti l'assemblea decide dopo aver ascoltato un oratore a favore in questo caso Cisetti e un oratore contro Ciccioli per non più di 5 minuti ecco il tema perché siamo in questa situazione prego la parola a Carancini siamo sempre all'ordine del giorno io non so se l'incidentale che lei ha indicato è scritta nella norma quando lei dice che sull'ordine del giorno interviene uno a favore e uno contro l'interpretazione che io credo sbagliata che quello a favore sia il presentatore mi pare palese cioè il presentatore è il presentatore dell'ordine del giorno sull'ordine del giorno interviene uno a favore e uno contro quindi potrei essere nettamente d'accordo con Cisetti e come se Cisetti attraverso la presentazione dell'ordine del giorno impegnasse pure me io credo che sia sbagliato ma come dire mi pare evidente con molta umiltà Presidente però lei immagini l'ordine del giorno è uno strumento che può anche essere ho compreso allora no no ho compreso in questo senso io ho interpretato in questo modo però poi diciamo la logica la portiamo a sviluppare nella discussione generale ed espressa da parte di tutti e l'articolo recita in questo modo durante la discussione generale ciascun consigliere può proporre un ordine del giorno motivato in questo caso il consigliere Cisetti nel suo primo intervento spiegando il perché la decorrenza doveva essere dal 24 di gennaio perché in quel giorno si è tenuta la riunione della giunta per regolamento ha indicato la presentazione dell'ordine del giorno e quindi è giusta l'obiezione che faceva il consigliere Garancini in merito al fatto che chi propone l'ordine del giorno può avere o lui o un altro di chi è a sostegno l'intervento nel momento in cui si discute della votazione dell'ordine del giorno cioè dell'ordine di non passaggio alla discussione di articoli di emendamenti ma questa parte c'è già stata in questo caso secondo me io non voglio censurare cioè l'obiezione che fa in teoria il consigliere Romano Garancini è giusta nell'applicazione concreta non la possiamo riferire al nostro caso al caso che stiamo discutendo perché il consigliere Cesetti ha già preannunciato anzi l'ha spiegata in maniera molto esastiva il perché della presentazione dell'ordine del giorno poi è stato lo stesso consigliere Cesetti che nella pubblicazione dell'articolo 99 quando io ho chiesto appunto della mettere in discussione e mettere in votazione l'ordine del giorno ha esposto la sua posizione quindi presentandosi come oratore a favore quindi siamo nell'applicazione giusta credo dell'articolo 99 se dovesse succedere in futuro è chiaro che chi presenta l'ordine del giorno ha poi diritto lui o un altro di quella parte che vuole far votare l'ordine del giorno stesso di poter intervenire per i 5 minuti a disposizione bene detto ciò è detto ciò quindi non abbiamo leso assolutamente l'applicazione l'attuazione dell'articolo in maniera molto espressa in maniera aperta insomma la posizione e ritenendo appunto giusto l'obiezione teorica che ha fatto il consigliere Carancini bene mettiamo adesso in dichiarazione di voto l'ordine del giorno presentato dai il gruppo dei consiglieri del gruppo regionale PD Fabrizio Cesetti Mangialardi Biancani Bora Carancini Casini Mastro Vincenzo e anche la consigliera Ruggeri scusi quindi è gruppo PD è gruppo Movimento 5 Stelle la parte dispositiva recita in questo modo l'assemblea legislativa di libera il non passaggio la discussione degli articoli degli emendamenti della deliberazione legislativa statutaria approvata dall'assemblea legislativa regionale a maggioranza assoluta nella seduta del 6 dicembre 22 numero 93 d'oggetto modifica la legge statutaria 8 marzo 2005 numero 1 statuta della ragione Marche essenze per gli effetti dell'articolo 99 regolamento interno ancor di più è specificato dal consigliere Cesetti proprio l'indicazione dell'articolo del regolamento per dichiarazione di voto per il gruppo PD il consigliere Maurizio Mangialardi prego sì grazie presidente adesso al di là dell'interpretazione che forse ha chiarito che si è considerata durante la relazione del consigliere Cesetti di minoranza anche la presentazione perché questa è stata l'interpretazione data però proprio partendo proprio dalla interpretazione che è quella che siete stati costretti a dare in occasione della riunione della giunta per il regolamento perché anche lì direi l'emendamento 1.1 non è stato considerato sostitutivo e devo dare atto al consigliere Fabrizio Cesetti come al solito con grande onestà intellettuale e ha facilitato presidente lei lo sa quell'interpretazione perché se fosse stata per il sottoscritto rimaneva rigido invece sulla interpretazione sostitutiva e quindi ci sarebbe poteva essere anche la decadenza non solo degli articoli ma della norma che era stata approvata in modo non ortodosso ma questa è stata l'interpretazione allora io lo dico al di là del fatto cioè non si può sempre banalizzare presidente tutto non si può stiamo cambiando lo statuto del nostro consiglio e della nostra regione che è quello strumento che prende spunto dall'indicazione della nostra costituzione e ci mette in relazione calibrata e adeguata con i nostri cittadini non si può banalizzare dicendo ma è in fondo siete lì capziosi per i giorni non la doppia lettura forse non meno serve noi siamo quelli che siamo pratici e quindi anche nelle nostre modalità la trasformiamo in banalità presidente non serve non serve dare questa interpretazione perché questa è autentica e dico pure così lo anticipo che noi non ci fermeremo su questo siamo capziosi e invece Cesetti come al solito ha dato un suo contributo serio approfondito adeguato che lo mette nelle condizioni analogamente all'errore che è stato commesso in fase di approvazione è di uscirne in modo dignitoso a tutti e invece siccome considerate anche la modifica statutaria un fatto banale come al bocciodromo anche il bocciodromo sono più attenti il bocciodromo di via rovereto lo cito da sempre ecco e allora il nostro invito è di non banalizzare ma questo non va appartiene perché poi l'approccio è sempre con questa modalità di votare l'ordine del giorno proposto a prima firma dal consigliere Fabrizio Cesetti bene altre dichiarazioni di voto non vi sono allora apriamo la votazione sull'ordine del giorno presentato dal gruppo PD gruppo consigliare PD e dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle apertura della votazione vi prego di votare chiusura della votazione favorevoli 7 contrari 16 astenuti nessuno l'ordine del giorno non è approvato quindi passiamo adesso all'esame in seconda lettura della deliberazione legislativa statutaria approvata nella seduta dell'assemblea legislativa del 6 dicembre 2022 con numerazione numero 23 partiamo dall'articolo 1 articolo 1 che non presenta emendamenti modifica l'articolo 26 legge statutaria 1 2005 dichiarazione di voto consigliere Cesetti per il gruppo PD prego sì ovviamente il gruppo PD all'articolo 1 vota favorevolmente perché questo nasce proprio da un emendamento appunto del gruppo del Partito Democratico approvato in prima lettura che attribuisce al Presidente la possibilità di delegare specifiche attività a singoli consiglieri regionali e che consigliere delegato partecipa alla seduta di giunta senza diritto di voto dove si discute di questione attinenti alle attività delegate sostanzialmente dovrebbero fare quello che voi vorreste far fare anche al sottosegretario che pertanto diventa anche per questo una figura inutile quindi a questo articolo voteremo a favore ovviamente grazie altre dichiarazioni di voto non ci sono apriamo la votazione sull'articolo 1 prego votare occorre la maggioranza assoluta per ogni singola votazione su ogni singolo articolo sulla votazione finale chiusura della votazione favorevoli 23 contrari 1 astenuti nessuno quindi l'articolo è approvato articolo 2 vi è un primo emendamento a firma del gruppo consigliare PD prima firma Fabrizio Cesetti l'emendamento il 2 barra 1 in cui si dice che l'articolo 2 è soppresso consigliere Cesetti a lei la parola per l'intervento prego Presidente l'ha detto lei è un emendamento soppressivo dell'articolo 2 è coerente appunto con l'avvenuta approvazione dell'articolo 1 che attribuendo le deleghe ai singoli consiglieri regionali come è giusto che sia rende superflua la nomina del sottosegretario e per certi versi anche diciamo in contraddizione la nomina del sottosegretario che si vorrebbe fare appunto con l'articolo 2 la rende non solo inopportuna di incontraddizione ma la rende anche illegittima perché il fatto che poi si preveda che può essere scelto anche all'esterno questo determinerà l'attribuzione di un'indenità e delle strutture di supporto con conseguente violazione anche dell'automativa statale quindi raccomando l'approvazione di questo emendamento sebbene so che non verrà accolto dalla maggioranza ma non è che ce ne doliamo più di tanto altri interventi non ci sono passiamo alla votazione dell'emendamento l'emendamento è denominato 2 barra 1 apertura della votazione prego votare anche in questo caso occorre la maggioranza assoluta dei voti per l'approvazione chiusura della votazione favorevoli 5 contrari favorevoli scusate favorevoli 6 contrari 17 astenuti 1 l'emendamento non è accolto abbiamo il secondo emendamento l'emendamento 2 barra 2 a firma dei componenti del gruppo consigliere PD prima firma Fabrizio Cesetti prego consigliere Cesetti credo che sia opportuno che esponga l'emendamento che è più sostanzioso del precedente sì sì perché mentre il precedente era semplicemente soppressivo con questo emendamento si interviene al comma 2 dell'articolo 28 bis così come inserito dove al comma 2 la lettera si dice che il sottosegretario partecipa alle sedute della giunta regionale pur non facendone parte senza diritto di voto quello che fa quindi il sottosegretario di fatto è quello che farà il consigliere delegato di cui è l'articolo 1 che abbiamo poco anzi approvato quindi mi spiegate voi mi spiegate voi no almeno quindi almeno questa disposizione almeno questa disposizione io credo che la potreste che la proteste approvare perché sostanzialmente noi vi diamo la possibilità di un potere in più no Carancini addirittura che quindi il sottosegretario partecipi alla giunta e che ne faccia parte e che abbia anche il diritto di voto perché delle due l'una e se volete mantenere questa non ho capito perché la mantenete se abbiamo votato l'altra se abbiamo votato l'altra e allora almeno cassatela che anche questo ha un minimo di coerenza altre dichiarazioni di voto non ci sono apertura della votazione sull'amendamento 2 barra 2 prego votare Consigliere Rossi lei deve votare chiusura della votazione favorevoli 6 contrari 18 astenuti 1 l'ammendamento non è accolto adesso passiamo alla votazione alla dichiarazione di voto dell'articolo 2 inserimento dell'articolo 28 vista nella legge statutaria 1 2005 dichiarazione di voto Consigliere Cesetti prego Presidente prego io per chiedere per chiedere il voto per appello nominale a nome di Casini e Carancini appello nominale su questa votazione da parte dei consiglieri richieste dai consiglieri Casini Carancini e Cesetti dichiarazione di voto prego Consigliere Carancini io credo che il Partito Democratico attraverso gli emendamenti e la discussione generale abbia dimostrato quanto fosse utile un'intesa una conversione su alcuni temi che riguardano appunto la modifica statutaria voteremo contro voteremo contro l'articolo 2 innanzitutto perché c'è una contraddizione veramente manifesta rispetto appunto per esempio alla lettera dell'articolo 2 si intende far partecipare legittimamente il sottosegretario alla giunta ma non lo si intende far votare in questa maniera si equipara la funzione a quella del consigliere delegato che davvero davvero non avrebbe non avrebbe giustificazioni aggiungo che l'altro elemento che è politico e tecnico nello stesso tempo riguarda la lettera C la lettera C è la previsione che il sottosegretario Cesetti per cortesia non infastidisca Presidente glielo dica Cesetti prego consigliere Cesetti prego di lasciare spazio al suo collega per un'affermazione importante su questa deliberazione statutica e quindi il prevedere alla lettera C che il sottosegretario possa rispondere in consiglio regionale all'interrogazione del consiglio stesso ci sembra ci appare un atto asimmetrico ci sembra un atto ingiustificato paradossalmente potrebbe rispondere un dirigente tecnico se lo vogliamo far fare al sottosegretario l'ultima osservazione la faccio invece alla previsione dell'indennità per il sottosegretario chiedo scusa Presidente ragione vi chiedo di fare silenzio chi deve parlare anche se è un momento importante esca dall'aula ma sarebbe davvero necessario rimanere in silenzio siamo in una votazione molto importante consigliere Rossi siamo in sede di dichiarazione di voto vi prego la massima attenzione e rispetto per il collega prego viene nominato dal presidente regionale comprensibilmente legittimamente e sostanzialmente siamo d'accordo un consigliere delegato all'attività specifica e ovviamente non viene retribuito e non partecipa al voto della giunta viene nominato Nomen Iuris il sottosegretario alla presidenza del consiglio che ha le medesime funzioni del consigliere delegato e gli regaliamo quanti 7 8 9 mila euro e questo vuol dire che probabilmente è una previsione di modifica statutaria ad hoc per qualcuno grazie grazie non ci sono altre dichiarazioni di voto mettiamo in votazione l'articolo 2 apertura della votazione chiusura della votazione favorevoli 18 con 3 di 5 astenuti nessuno nessuno l'articolo 2 approvato dichiarazioni di voto sull'intero articolato della deliberazione consigliere Carlo Ciccioli per il gruppo Fratelli d'Italia sono soddisfatto sono soddisfatto delle votazioni sugli articoli ci sarà il voto finale faremo finalmente decollare questa figura un cambiamento anche parziale della legge ci riportava a rinviare di ulteriori due mesi minimo l'approvazione di questa legge invece c'è urgenza siamo vicini alla metà della legislatura è importante recuperare tutte le energie per portare a termine i programmi che stiamo abbiamo già avviato in parte stiamo a buon punto di realizzazione che devono come tutte le cose della pubblica amministrazione essere incalzati per poter andare in porto quindi voto con soddisfazione questa proposta di legge consigliere il capogruppo consigliere Renzo Marinelli capogruppo del gruppo Lega prego Sì grazie Presidente per dire che siamo favorevoli a questa proposta a questa modifica statutaria in quanto consente all'esecutivo di avere una persona in più sul quale poter contare in un momento di difficoltà dove ci sono state tante emergenze e dove il numero degli assessori sicuramente è limitato quindi ben venga questa possibilità di ampliare o avere delle persone che possano seguire in modo appropriato temi che la Giunta e il Presidente vogliono individuare quindi siamo favorevoli a questa iniziativa come siamo favorevoli anche al fatto che il Presidente può delegare i consiglieri per alcune iniziative deleghe grazie 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 capogruppo altre dichiarazioni di voto la consigliera Anna Casini per il gruppo Partito Democratico grazie Presidente noi siamo contrari per le motivazioni mi aspettavo che facesse il collega Cesetti insomma ormai ho iniziato io per le motivazioni che ha molto meglio di me espresso il consigliere Cesetti questa è un'ulteriore poltrona che poteva essere appunto evitata con la figura del consigliere quindi l'ennesimo poltronificio l'ennesima poltrona che voi realizzate mi pare che siano 32 o 33 Presidente lei alza gli occhi al cielo ma li alziamo noi gli occhi al cielo perché tutto questo costa comunque ai cittadini e l'elenco se vuole glielo mando nella sua mail così lei se lo controlla da quando vi siete insediati non avete come diceva oggi Carancini provveduto a riaprire gli ospedali non avete fatto quello che avevate detto nella vostra campagna elettorale però di poltrone ne avete create tante per carità di Dio le poltrone le potete fare a volte sono borderline rispetto alle norme di legge a volte sono invece consentite è una questione di opportunità di fatto c'è che questa giunta e questo consiglio conseguentemente ha aumentato di oltre 30 aumenta il numero dei posti previsti dei posti previsti prima Puzzo c'è poco da dire avete coperto i posti che c'erano prima più ne avete creati oltre 30 e li avete coperti se poi mi vuoi controdedurre con una risposta diversa me lo puoi dire ma purtroppo per voi l'avete fatto e per fortuna l'avete fatto con norme di legge quindi basta prendere le norme di legge che sono state approvate e la sfida è sul 30 io penso che siano 32 o 33 qualcuno potrebbe dirmi che sono 29 o 30 ma il numero si aggira intorno al 30 appunto e insomma questa è una cosa che i cittadini devono sapere devono sapere come vengono spesi i soldi perché poi è facile dire che le indennità sono basse o piuttosto inesistenti perché poi sappiamo bene che tutto questo costa costa come rimborsi spese costa come personale che viene appunto utilizzato per giustamente appoggiare queste figure l'emendamento che era stato proposto dal Partito Democratico in particolare dal Consigliere Cesetti era di buon senso dico a chi è intervenuto prima di me che se voi ritenete che l'aggiunta di sei assessori sia un'aggiunta insufficiente lo penso anche io è vero abbiamo molto faticato soprattutto in periodo di terremoto di neve e di covid parlo del primo covid però insomma oggi siete al governo e quindi proporre una modifica invece di interloquire genericamente potrebbe essere una buona soluzione proponete al governo di modificare la norma e quindi di consentire che ci siano per esempio otto assessori invece di sei e questa sarebbe una norma di buon senso perché vi posso assicurare che con il trasferimento delle deleghe dal della legge a seguito della legge del Rio delle deleghe dalle province alle regioni e la riduzione del numero degli assessori ha creato effettivamente un carico di lavoro per gli assessorati che non è indifferente io di questo mi rendo perfettamente conto chiaramente l'iniziativa in questo caso di inserire il sottosegretario ha tutt'altra finalità perché poi il sottosegretario non sarà un assessore e non sarà neanche un consigliere quindi non sarà diciamo né eletto né nominato per cui insomma sarebbe possibile sarebbe stato possibile scegliere e votare l'emendamento di Cesetti da un lato e impegnarsi per poter modificare la norma che effettivamente non determina nel caso degli assessori un risparmio reale grazie consigliere il capogruppo del Movimento 5 Stelle consigliere Marta Ruggini grazie presidente come abbiamo fatto in prima approvazione anche questa volta il Movimento 5 Stelle voterà contro e le motivazioni sono le stesse già enunciate dai miei colleghi io volevo semplicemente sottolineare che durante la prima discussione avevo presentato diversi emendamenti che questa volta ho deciso di non ripresentare perché sarebbe stato a mio avviso inutili emendamenti con i quali si sopprimeva per esempio la possibilità che il sottosegretario rispondesse alle interrogazioni secondo me questo è un errore dal punto di vista politico insomma che risponda a qualcuno della Giunta che risponda al Presidente della Giunta non ci piace anche l'idea che possa essere un estraneo a questo consiglio quindi insomma ci sono diverse problematiche che avevamo cercato di risolvere le nostre proposte non sono state accolte all'epoca questa volta non sono state riaccolte neanche quelle formulate dal collega Cesetti del Partito Democratico quindi non ci resta che respingere per la seconda volta questa proposta di legislativa statutaria grazie bene non ci sono altre dichiarazioni di voto mettiamo in votazione la deliberazione che ho citato prima riguardante la modifica statutaria quindi apertura della votazione grazie la deliberazione legislativa statutaria concernente modifica la legge statutaria 8 marzo 2005 numero 1 statuto di ragione marchia apertura della votazione anche qui maggioranza assurda anche qui dichiarazione con palese appello appello al voto palese mi sembra no da parte dei consigliere Casini Cesetti e Carancini chiusura della votazione favorevoli 19 contrari 7 astenuti nessuno la deliberazione è approvata adesso passiamo al punto successivo che è quello delle mozioni dunque la mozione 4 quelle che in cui risultano abbinate le due mozioni la 314 la 315 relative all'iniziativa che riguarda le pietre d'inciampo e la memoria storica di fatti che determinare un orrore della schua è rinviata alla prossima seduta del consiglio regionale per l'assenza della prima firmataria della seconda mozione la consigliere Monica acciari e anche del consigliere maggio l'art quindi questa viene rinviata si passa alla seconda mozione la numero 5 la 217 dei consigliere rossi Marcozzi Marinelli Puzzo Borroni richiesta al governo al Parlamento italiano di modifiche della legge 3 maggio 51 numero 15 un conseguente revoca dell'onorificenza di Cavaliere della Repubblica Iosef Broz noto come Tito qui la competenza dell'assessore Francesco Baldelli che vedevo prima in aula se potete chiamarlo e comunque il primo firmatario il consigliere Giacomo Rossi lascio a lui la parola per esporre la mozione mozione sulla questione della revoca dell'onorificenza del Cavaliere della Repubblica Tito prego consigliere grazie presidente cercherò di essere telegrafico sull'esposizione di questa mozione innanzitutto un saluto a tutta l'associazione degli esuli Istriano Giuliano Idalmati non è diciamo all'ordine del giorno di un movimento civico come il nostro seguire delle argomentazioni storiche o di ideologiche ma interessato anche da cittadini marchigiani esuli e figli di esuli Istriano Giuliano Dalmati ho voluto avanzare questa mozione e l'ho fatto in occasione dello scorso consiglio in occasione delle celebrazioni della giornata del ricordo e con questa mozione si chiede sostanzialmente di come già è stato anche approvato approvato meglio deliberato da Friuli Venezia Giulia Veneto e Liguria di togliere secondo quello che prevede l'articolo 10 della normativa che istituisce l'ordine al merito della Repubblica italiana di togliere il cavalierato della Repubblica al maresciallo Joseph Bross detto Tito abbiamo ascoltato nello scorso consiglio le preziosi memorie portate qua sia dalle scuole che anche dalle associazioni istriano Giuliano Dalmate e sappiamo oramai storicamente riconosciuto che gli orrori delle foibe e il consecutivo esilio istriano Giuliano Dalmate è sostanzialmente avvenuto ed è figlio delle opere e della politica perpretata appunto da Tito al dittatore Tito quindi è scrivibile una serie di crimini contro l'umanità tra i quali quelli perpretate nelle terre Giuliano Istriano Dalmate dove migliaia di italiani tra cui oppositore del regime comunista venero uccisi e gettati appunto nelle foibe tali crimini hanno portato dopo la seconda guerra mondiale sia la pulizia etnica che poi all'esilio quindi non si capisce come appunto possa essere istituita come è stato fatto nel 2004 la legge che ricorda i caduti delle foibe e poi allo stesso tempo ancora la Repubblica italiana garantisce questo alto riconoscimento al maresciallo Tito cavaliere della Repubblica italiana è tutta un'assurdità è una contrarietà ripeto io vedo la politica come un qualcosa che guarda avanti ma se guarda avanti non possiamo guardare indietro e non possiamo notare questa nota stonata importante e quindi so che tra l'altro c'è anche una proposta in Parlamento che va in questo senso poi credo che rispenderà l'assessore Baldelli che conosce bene anche tutta la diciamo la vicenda parlamentare e credo che questo sia doveroso un atto doveroso e sarebbe come ecco dare continuare a conferire riconoscimenti statali ed onorifici a dittatori ben noti che abbiamo conosciuto del quale oramai tutti dissacriamo l'operato l'operato storico ecco la storia deve deve guardare al passato e guardare anche al presente quindi questa onorificenza non può essere ancora mantenuto mantenuta nel petto di una persona che seppur pur morta come il maresciallo Tito non può appunto ancora continuare ad avere quindi io la faccio la faccio breve la chiudo qua perché c'è poco da dire poco da ragionare sappiamo le motivazioni sappiamo le motivazioni storiche le abbiamo approfondite ripeto anche allo stesso consiglio sarebbe veramente un insulto a quello che noi celebriamo non possiamo ricordare i morti fatte da una persona e quella persona ancora ha in sé nel proprio petto un riconoscimento diciamo la massima buone efficienza della Repubblica italiana grazie grazie chiesto di intervenire alla consigliera l'indita elezi grazie presidente colleghi consiglieri ringrazio collega Rossi come primo firmatario di questo ordine del giorno e altri colleghi firmatari proprio per questo ordine del giorno siamo qui oggi per chiedere la revoca di onorificenza del Cavaliere della Repubblica conferita a Joseph Brons noto come Tito Tito fu leader della Jugoslavia dal dopoguerra fino alla sua morte nel 1980 ha certamente lasciato un'impronta nella storia ma non possiamo dimenticare le sue azioni contro la democrazia e i diritti umani Tito è stato leader del partito comunista Jugoslavo un partito che ha governato la Jugoslavia con mano di ferro per molti anni Tito ha governato con un sistema autoritario che ha represso la libertà di espressione e la dissidenza politica ha imprigionato e ucciso coloro che si opponevano al suo regime e al suo governo ed è stato responsabile di numerose violazioni dei diritti umani i massacri delle foibe e l'essido Dalmata Giuliano sono una pagina di storia che per molti anni Italia l'ha voluto dimenticare e che porta la firma proprio di Tito come possiamo dimenticare quando i partigiani Jugoslavi per rivendicare il possesso di Istria e di Almazia torturarono e gettarono nelle foibe moltissimi italiani e deportarono tanti nostri connazionali nei campi sloveni e croati a tal riguardo Corallese 30 marzo 2004 numero 92 è stato istituito il giorno del ricordo che viene celebrato il 10 febbraio istituito proprio per conservare e rinnovare la memoria della tragedia di italiani e di tutte le vittime delle foibe dell'esso delle loro terre dei istriani fiumani ed almati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale ricordo a tutti che Tito ha guidato la Jugoslavia una politica estera aggressiva che ha portato ai conflitti armati e violenze ha sostenuto i movimenti di liberazione nel mondo ma anche ha esportato la sua ideologia comunista in altre nazioni destabilizzando molti paesi e causando sofferenze e milioni di persone ancora è vivo il ricordo della dura guerra del Kosovo ancora è vivo ricordo della repressione sistematica di tutte le manifestazioni di nazionalismo del paese attuato dal governo sotto Tito cercando di garantire che nessuna repubblica o nazionalità acquisisce il dominio su altre colleghi consiglieri non possiamo ignorare il fatto che Tito non è stato il sostenitore della democrazia e della libertà che ha governato con un pugno di ferro reprimendo la libertà di espressione e della dissidenza politica ricordo a tutti che in queste azioni sono un netto contrasto con i valori con la repubblica italiana rappresenta e promuove ritirare onorificenza del cavaliere della repubblica Tito non significa dimenticare il suo importanza storica significa semplicemente non celebrare un uomo che ha commesso gravi violazioni dei diritti umani e ha governato con un sistema autoritario la repubblica italiana deve rappresentare e promuovere i valori della democrazia della libertà e dei diritti umani e non può celebrare un uomo che ha fatto il contrario aggiungerei che la revoca del onorificenza di cavaliere della repubblica Tito non è solo un'occasione di giustizia e di coerenza coi valori democratici ma anche una questione di memoria storica la memoria storica è un valore importante per una società democratica la conoscenza del passato delle sue vicende delle sue contraddizioni ci aiuta a capire meglio il presente a costruire un futuro migliore la memoria storica ci permette di non dimenticare gli errori e gli orrori del passato per evitare di ripeterli in futuro revocare onorificenza del cavaliere della repubblica Tito significa anche riconoscere le sofferenze le ingiustizie subite dalle vittime e le sue regime significa rendere loro giustizia a riaffermare il valore della memoria storica come strumento di riconciliazione e di costruzione di una società più giusta e solidale inoltre la revoca di onorificenza del cavaliere della repubblica Tito può essere un segnale importante per le nuove generazioni può essere un'occasione per riflettere sui valori della democrazia della libertà e dei diritti umani e su come la loro difesa sia sempre una sfida attuale e necessaria in conclusione la revoca di onorificenza di cavaliere della repubblica Tito è una questione di giustizia coerenza e memoria storica rivendichiamo il valore della memoria storica come strumento di costruzione di una società più giusta solidale e democratica grazie grazie a lei adesso la parola all'assessore Francesco Baldelli prego signor presidente signori consiglieri quando ho letto la mozione la prima cosa che mi sono chiesto è perché perché oggi a distanza di oltre mezzo secolo una regione come le Marche debba occuparsi di un criminale su cui la storia ha già calato il suo inequivocabile giudizio perché dovremmo chiedere al governo italiano di revocare un'onoreficenza ad un ex capo di uno Stato che non c'è più riesumando il fantasma di un individuo che voleva fare di Trieste la capitale della settima repubblica Jugoslava e che è stato il mandante indiretto della tragedia delle foibe ebbene di risposta a questi perché ne ho trovate molte ma ne cito soltanto due la prima perché questo personaggio macchiatosi di crimini contro l'umanità ha molto a che fare con le Marche non dimentichiamoci che le Marche sono per definizione terra di confine e per decenni dopo il secondo conflitto mondiale il più esteso confine verso l'est Europa la Jugoslavia insieme alla sua cortina di ferro era proprio qui nell'Adriatico prima ancora le Marche sono state testimoni di una delle pagine più buglie della nostra recente storia in quel 16 febbraio 1947 quando da Ancona partì in direzione Bologna e d'altre città del nord Italia il convoglio ferroviario carico di profughi appena sbarcati da Pola in fuga dalle persecuzioni titine fu definito il treno della vergogna vergogna che proviamo ancora oggi per come furono trattati lungo tutto il tragitto gli esuli italiani incolpevoli stranieri in patria famiglie con bambini piccoli e anziani costretti all'agonia in balia delle violenze tipiche di un clima di guerra civile vittime di un odio fomentato anche da molta intelligenza culturale di sinistra ma i marchigiani non hanno mai dimenticato di essere stati per decenni terra di emigrazione che conoscono molto bene cosa significhi abbandonare la propria patria gli affetti e una fetta importante della propria vita grazie a questo DNA abbiamo sempre assolto al dovere di ospitare e integrare famiglie in fuga dagli orrori della guerra proprio a partire dai profughi istriani e dalmati a Dancona Macerata e negli altri comuni della regione le Marche hanno svolto dignitosamente e responsabilmente il loro ruolo di terra di accoglienza recentemente lo sanno bene anche gli albanesi i kosovari e gli altri profughi che hanno dovuto fuggire dalla propria terra oggi sono qui con le loro famiglie e i loro bambini che frequentano le nostre scuole insieme ai nostri figli e nipoti sono italiani che vivono e lavorano in Italia e come italiani hanno il diritto di conoscere la nostra storia affinché diventi anche la loro storia e la storia non può non tener conto dei crimini consumati contro i nostri connazionali anche attraverso gesti simbolici come la revoca di una onoreficenza a chi di quei crimini si è reso responsabile in prima persona la seconda risposta perché un'istituzione democratica come la nostra ha il dovere di rappresentare le sue stanze non solo quanto esse riguardano questioni locali ma anche quando si fa riferimento a interessi nazionali alla base di un principio che ci accomuna l'essere italiani se dobbiamo dare un senso alla giornata del ricordo e a tutte le ricorrenze storiche che segnano il passato della nostra nazione allora lo dobbiamo fare partendo anche da queste iniziative simboliche non possiamo restare immobili di fronte ad un paradosso evidente da un lato la Repubblica italiana che continua ad annoverare tra i suoi uomini più illustri proprio chi ordinò la pulizia etnica degli italiani uscire da questo cortocircuito è un imperativo morale a cui nessun italiano può sottrarsi né tantomeno chi come noi marchigiani abbia assistito in prima persona al dramma dei profughi provenienti dall'est Europa a queste due risposte vorrei aggiungere altre considerazioni a sostegno dell'iniziativa siamo tutti coscienti che il conferimento dell'onoreficenza a Brostito Iosip debba essere valutata alla luce del momento storico che l'Italia viveva alla fine degli anni sessanta in piena guerra fredda e soprattutto quando l'indagine storica non aveva ancora portato alla luce in tutta la loro gravità i crimini di cui si erano macchiati i cosiddetti titini ancora non si sapeva o si faceva finta di non sapere dei diecimila italiani oltre vittime delle fobie dei campi di concentramento jugoslavi degli uomini fucilati ed eliminati dopo crudeli torture senza considerare quelli sterminati dai partigiani comunisti jugoslavi nelle giornate successive all'otto settembre oggi tutto questo è parte integrante della cosiddetta verità storica e segna un capitolo nuovo della storia della nostra nazione faccio riferimento a due nostri presidenti della Repubblica nel 2007 Giorgio Napolitano ebbe a dire che il dramma del popolo Giuliano Dalmata fu scatenato da un moto di odio e furia sanguinaria e un disegno annessionistico slavo che assunse i sinistri contorni di una pulizia etnica il presidente Sergio Mattarella ha recentemente riconosciuto che per troppo tempo le sofferenze patite dagli italiani Giuliano Dalmati con la tragedia delle foibe dell'esodo hanno costituito una pagina strappata nel libro della nostra storia aggiungendo che con il giorno del ricordo il Parlamento con decisione largamente condivisa ha contribuito a sanare una ferita profonda nella memoria e nella coscienza nazionale basterebbero queste considerazioni per aderire senza indugi alla proposta di legge finalizzata a revocare il titolo di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a chiunque anche se defunto come il maresciallo Tito si sia macchiato di crimini crudeli contro l'umanità la richiesta di revocare l'ornoreficenza non vuole essere una sentenza contro una persona o un popolo perché il giudizio nei confronti del criminale Broz Tito e di ciò che accadde ai nostri compatrioti dopo il 1947 lo ha già dato la storia a noi interessano di più le storie di quegli italiani vittimi della follia della polizia etnica e del nazionalismo più becero a cui oggi dobbiamo rispetto anche attraverso un gesto simbolico come la revoca della onoreficenza che lo Stato italiano riservò al loro carnefice la storia è fatta di errori ma il futuro è di chi ha il coraggio di ammetterli e di porvi rimedio anche attraverso gesti simbolici cito in conclusione la proposta di legge chi ha calpestato annientato e per ragioni ideologiche volutamente perseguitato i nostri concittadini non può e non deve ricevere riconoscimenti dobbiamo porre rimedio a questa inaccettabile distorsione al fine di consentire la revoca della più alta onoreficenza della Repubblica italiana anche post mortem qualora l'insignito si sia macchiato di crimini crudeli e contro l'umanità universalmente riconosciuti un atto che finalmente contribuirebbe a sanare seppur in parte la ferita del confine orientale rendendo il giusto tributo alle migliaia di vittime sulla cui memoria ancora oggi non si è fatta piena giustizia aggiungo lo dobbiamo per ricordare le vittime di quella tragedia lo dobbiamo per disegnare un futuro fatto di valori democratici alle nuove generazioni di italiani grazie presidente grazie a lei grazie a lei assessore del suo intervento non ci sono altre altre presi di posizioni no c'è quella c'è l'intervento quindi del consigliere Romano Garancini lei la parola consigliere dopo il comizio dell'assessore di nazional fascista memoria davvero si avrebbe voglia di un attacco incredibile ma in fondo l'assessore Baldelli come dire ci ha abituato a queste cose ma ci ha abituato per una semplice ragione perché perché non si confondono i temi che stanno all'interno di una mozione con i temi che riguardano la storia dell'Istria della Dalmazia di tutto ciò che è accaduto e che pochi giorni fa abbiamo commemorato qui ci sono atti simbolici Francesco Costiga che si inginocchia a Basovizza ci sono atti simbolici come quello di Sergio Mattarella che è il nostro Presidente della Repubblica come lo fu Costiga che dinanzi alla stele di persone infoivate mano nella mano col Presidente della Repubblica slovena ha in una qualche maniera riportato ricucito quella che è la storia dei popoli e sulla quale credo come dire non esistono dubbi ribadisco qui a nome del Partito Democratico il pensiero la vicenda delle foibe è una vicenda che purtroppo è stata nascosta e in una qualche maniera non giustamente legittimamente umanamente condannata nel momento in cui quelle prime quelle prime storie sono venute sono venute alla luce e io credo che l'istituzione nel giorno della memoria 17 18 anni fa fu un atto di grande civiltà fu un atto nel quale lo Stato italiano dimostrava ancora una volta come si potesse continuare a guardare indietro si dovesse continuare a riguardare la coscienza di momenti che naturalmente non vorremmo che più accadessero e questo è certamente un punto che non può essere messo in discussione non a caso come dire partecipiamo consideriamo quella vicenda e il giorno che la rappresenta un punto fondamentale un passaggio fondamentale della coscienza di questo paese e l'altro è una mozione che sostanzialmente dice modificate la legge che riguarda il l'assegnazione delle onoreficenze alla Gran Croce della Repubblica e poi revocate la post-mortem a Tito ora ho detto il giorno della memoria ma era il giorno del ricordo forse in un passaggio quindi chiedo scusa ma in fondo il giorno della memoria e il giorno del ricordo sono due facce della stessa medaglia al di là del fatto che insomma la vicenda nazifascista ha un peso evidentemente storico più ampio e con una serie di effetti rilevanti ma la presentazione è una mozione che riguarda la volontà di un presidente della Repubblica quindi totalmente esclusa la volontà politica di governi e parlamenti perché lo dico a Baldelli Baldelli si dovrebbe ricordare che il Gran Croce l'onoreficenza non gliela dà il governo non gliela dà il Parlamento è scelta autonoma indipendente sulla base di quello che il presidente della Repubblica ritiene dover attribuire e quindi questa sorta di comizio riguardante che tende evidentemente ancora a dividere quando quando Baldelli fa riferimento alle storie o alle responsabilità certo che ci sono responsabilità anche le responsabilità uno si potrebbe mettere a dire di chi in quegli anni governava questo paese e certamente non era la sinistra probabilmente qualcuno più vicino a lui però è un modo sbagliato di affrontare un tema il tema dell'onoreficenza cercando di scambiarla dentro un dibattito politico ecco perché penso che sia una mozione che riporta alle divisioni il giudizio politico e questo lo ha detto Baldelli il giudizio politico storico di titolo lo dà la storia lo dà la storia non l'onoreficenza che il presidente della Repubblica autonomamente decide da attribuire e chi attraverso atti strumentali tende a far dividere aule come queste su una vicenda come l'assegnazione come dire i crismi gli elementi portanti dell'assegnazione dell'onoreficenza credo che voglia in una qualche maniera esacerbare le discussioni riaprire divisioni e in una qualche maniera trasmettere all'esterno che ci sono buoni e cattivi sulla assegnazione dell'onoreficenza di circa 50 anni fa forse 60 a Tito ecco perché io credo che sia sbagliato discutere di questo discutere addirittura la parte dispositiva di questa mozione dice sostanzialmente governo anzi governo regionale attivatevi affinché il Parlamento modifichi la legge sui gli elementi costitutivi dell'affidamento del riconoscimento alla Gran Croce e subito dopo immaginiamo che dobbiamo dobbiamo revocarla a Tito io penso che questa mozione non debba essere votata noi non la voteremo penso che sia sbagliato e penso che sia un ulteriore reatto che tende a dividere su un tema che non dovrebbe dividere e cioè ciò che è accaduto in Istria e Dalmazia subito evidentemente la fine della seconda guerra mondiale grazie consigliere Carlo Ciccioli ha le la parola sì rievocare pagine della storia dolorose è sempre uno strappo perché purtroppo nella storia dei popoli nella storia delle genti ci sono episodi terribili la storia degli italiani in Venezia Giulia Dalmazia è una storia dolorosissima è una storia che innanzitutto prevede la fuga l'esodo della popolazione di 350.000 persone espulse i superstiti se ne sono andati o per salvare la vita o perché non c'erano più le condizioni di poter esistere in quel territorio e a questi è andata bene poi ci sono dai 18.000 ai 30.000 32.000 i conti non sono mai stati fatti ma i conti dei morti sono state contabilità molto tristi e comunque spesso incerte hanno perso la vita sono stati assassinati spesso in maniera troce dopo stupri gettati in mare con dei massi legati al collo in foibati facendoli precipitare legati due a due un fucilato con uno vivo dentro le foipe e carsiche sono stati momenti terribili ma come è noto la storia sempre non oggi la scrivono i vincitori e quindi i vincitori scrivono solo le pagine ovviamente che possono fare onore trionfo e non le pagine oscure terribile in questo caso questo è successo alla fine dell'immane tragico secondo conflitto mondiale ovviamente chi aveva vinto automaticamente ha scritto le pagine di luce e non le pagine di orrori questo è il caso della ex Jugoslavia all'epoca prima del secondo conflitto mondiale l'Istria Pola Fiume la parte la Dalmazia Zara via di seguito erano luoghi dove abitavano tantissimi italiani e oggi gli italiani sono praticamente estinti non esiste più la comunità italiana addirittura i loro cognomi sono stati slavizzati esiste un piccolo nucleo ancora nella cittadina di Fiume esistono due consiglieri comunali della minoranza italiana credo che non esistino più assolutamente nella città di Zara era una città addirittura che aveva una storia latina non una storia dice legata alla Repubblica di Venezia no legata addirittura alla storia latina con nomi latini e via di seguito il maresciallo Tito fece l'identificazione di italiani con nemici nemici comunque e procedette alla loro eliminazione o alla loro fuga loro esodo c'è una parte della storia che mi piace qui ricordare a memoria quando alla fine del secondo conflitto mondiale 4.000 dico 4.000 iscritti al partito comunista italiani decisero di scegliere il blocco sovietico e si trasferirono nella ex Jugoslavia pensando che lì si sarebbe costruita una società più giusta più libera e con più rispetto dei lavoratori quei 4.000 comunisti furono poi uccise dal Tito maresciallo Tito perché italiani c'è una storia all'isola di Lussino una storia atroce di comunisti italiani eliminati perché italiani ovviamente la pavida Repubblica Italiana del dopoguerra non fece assolutamente memoria di queste vicende addirittura ci furono le unificenze allo Tito che era uno dei vincitori e quindi in quanto tali le stesse cose che sono accadute nella zona dell'Istria d'Almazia sarebbero potute avvenire a Trieste se non ci fosse stata la sollevazione della città e l'intervento dell'esercito inglese l'esercito inglese presiedò la città di Trieste a lungo fino a quando nel 54 si presero delle decisioni sulla zona A e la zona B e la zona A fu restituita totalmente all'Italia la zona B rimase incerta fino al triste trattato di Osimo di 50 anni fa bene credo che la verità fa il soccorso la verità fa sempre il soccorso sia che si tratta della strage degli armeni da parte dei turchi dell'intervento ottomano di cui oggi finalmente viene data memoria gli armeni non sono certamente l'Armenia non è vicina all'Italia l'Armenia era un popolo cristiano e fu sterminato oltre un milione di morte dei turchi e su questa vicenda c'è stato per anni un oblio terribile la verità che non è stata mai rimossa tutt'oggi Erdogan protesta quando si dice che quelle stragi quelle esecuzioni furono ottomane furono del vecchio impero turco quindi ecco credo che questo sia un atto io non ci vorrei mettere particolare infierire politicamente ideologicamente io direi che è un atto di giustizia togliere l'onoreficenza data abusivamente da una repubblica a mio parere pavida al maresciallo Tito è un atto di giustizia nei confronti della memoria di queste persone la maggior parte di questi sono anche quelli che si sono salvati ormai sono scomparsi non esistono più è una generazione che non esiste praticamente più perché erano persone che già siamo a quasi 80 anni dalla fine del secondo conflitto mondiale quelli che erano anche i più giovani di allora ormai diciamo sono a maturazione come dico è un termine clinico che non è tra i più più rispettosi però la memoria storica sì questa va salvaguardata credo che è un atto di rispetto e comunque mi sento di dire noi facciamo questa mozione in questo consiglio regionale però la maggioranza di questo governo è orientata a togliere l'onorificenza al maresciallo Tito quindi sicuramente noi interveniamo non è compito nostro la nostra è una mozione di intenti ma verso questo obiettivo siamo orientati lo dico come forza politica maggioritaria all'interno della maggioranza ma ampiamente condiviso dagli altri alleati della maggioranza di governo crediamo appunto che una pagina oscura debba essere strappata dai libri di storia questa dell'onorificenza al maresciallo Tito grazie non vi sono altri interventi sulla mozione nel merito della mozione apertura delle dichiarazioni di voto sulla mozione che abbiamo detto testegolo con firma primo firmatario Rossi la mozione numero 2 17 Giacomo Rossi prego allora io credo consigliere Carancini che lei debba usare in quest'aula un po' più di rispetto nei confronti degli altri colleghi si definisce sempre democratico dialogante eccetera però non perde mai l'occasione per insultare le persone e per insomma denigrarle come ha fatto nei confronti dell'assessore Baldelli che ha fatto una chiara ricostruzione storica e credo che non ci sia bisogno di apostrofarlo con quello che lei reputa appunto un un epiteto dispregiativo questo è un atto di rispetto non vedo come lei possa partecipare alla giornata del ricordo una settimana fa qua ascoltare quello che le associazioni istriane quello che le scuole hanno detto in maniera comprovata dal punto di vista storico e rifiutarsi di fare questo passo in avanti la sua chiusura ideologica è imbarazzante mentre la nostra diciamo parte politica riesce a fare un'analisi a 360 gradi della storia e anche riconoscere tutte le colpe mi pare strano che da un partito che si definisce democratico non ci sia un'altrettanta apertura voglio dire come fa fermo restando che è il presidente della Repubblica come fa a non votare quest'atto di indirizzo al governo e il governo può dare diciamo può dare allo stesso tempo un indirizzo può appunto legiferare in tal senso insomma veramente mi rimane mi rimane strano anche come gli altri colleghi del PD qualora accettino questa diciamo quello che ha detto Carancini riescano innanzitutto a condividerla ecco mi ha appena scritto un figlio di Esulistriano Giuliano Dalmati che guardava appunto il suo intervento e mi scrive che resti agli atti la loro miseria umana ecco è una miseria umana perché quando non si riesce a riconoscere storicamente in un mondo dove oramai determinate ideologie fortunatamente sono anche sorpassate a non fare questo atto di maturazione anche storica e soprattutto quest'atto di rispetto nei confronti degli esuli nei confronti dei figli di quelle famiglie anche marchigiane anche maceratesi lei è della provincia di Macerata che appunto sono emigrate verso la nostra regione l'abbiamo sentito una settimana scorsa non so lei aveva le cuffie o forse era fuori non condivideva allora se non condivideva è giusto che lei se non condivide questa ricorrenza esca dall'aula cioè non capisco qual è cioè non capiamo veramente come possa festeggiare la giornata del ricordo e opporsi a questo atto cioè in lei c'è una contraddizione veramente forte e spero che non sia una contraddizione anche del gruppo del partito democratico se no poi credete se no ci può anche stare se poi dopo siete ancora credete che sia giusto no urlare viva le foibe come come pochi giorni fa è stato gridato a Firenze potete anche farlo ma almeno siate siate credo siate coerenti di dire che non riconoscete quella quei determinati ideali quella nostra e riconosciuta analisi storica che è stata anche posta appunto nel 2004 in legge con la giornata del ricordo sia onesto nel dire che lei non riconosce la giornata del ricordo che lei non riconosce le foibe che lei non riconosce l'esodo sia onesto perché allora non capiamo perché da questa parte non deve riconoscere questo atto di rispetto nei confronti ecco dei nostri dei nostri esuli credo io credevo veramente che questo atto che tra l'altro avevo presentato due anni fa e che era stato proposto qua mi era stato proposto proprio qua dalle associazioni degli esuli io credevo che fosse che fosse un atto condivisibile come condivisibile tutte le altre giornate diciamo del ricordo della memoria e delle rimembranze che facciamo qua in aula credo che ci siano dei temi nei quali noi non possiamo dividerci lei parla di divisione ma la divisione è la sua la divisione è la sua è lei che in questo momento si colloca fuori da questo arco diciamo democratico che non riconosce determinate azioni storiche che crede che questa sia un'azione divisiva quando invece è un'azione di unione nei confronti di un ricordo era un atto che noi dovevamo alle associazioni degli istriani Giuliano D'Armati ecco mi meraviglio anche dei colleghi del PD spero che a questo punto escano piuttosto che votare contro a questo atto o ripeto abbia l'onestà intellettuale di dire che non non si riconosce su quello che credevamo oramai essere un ricordo comune una condanna comune o collega Carancini lei si pone dalla parte dei manifestanti fiorentini che ancora nel 2023 urlano viva le foe in qualsiasi manifestazione di una determinata sinistra io credevo che questo fosse un motivo di incontro mi sono sbagliato trovo ancora da questa parte un comunismo ideologico una sinistra ideologica che non sa analizzare una semplice mozione non sa fare un passo avanti nel futuro e anche un'analisi storica quindi io veramente rimango allibito e spero che lei prima della votazione ci possa anche ripensare grazie per il gruppo fratelli d'italia il consigliere Nicola Baiocchi prego fatto personale prego espongo il fatto personale intervenga sì presidente non lo faccio praticamente mai perché penso che la discussione sui fatti personali che riguardano che riguardano il consiglio siano molto spesso inutili e tra il volta certo però essere accusato di non condividere quello che la storia ha oramai dimostrato da tempo e in particolare il giorno di ricordo come fa il consigliere Rossi oggettivamente merita merita almeno una precisazione e non chiedo neanche che come dire vengano fatte le scuse a tutto questo io credo consigliere Rossi che la storia delle persone molto spesso ai fatti dimostrino quello che uno è e quello che uno porta avanti ho fatto per dieci anni il sindaco di Macerata sono stato il sindaco che dopo anni ha commemorato il giorno della ricorda e il giorno del ricordo e soprattutto lo andava a commemorare non a festeggiare il tentativo da parte tua e ovviamente il tentativo pretuestuoso dell'assessore dell'assessore Baldelli non è evidentemente il tema a cui tu fai riferimento non è in discussione quello che è accaduto e che l'assessore Baldelli attribuisce alla sinistra chi governava questo paese negli anni come dire dell'oblio il partito comunista chi governava chi attribuisce l'onoreficenza a Tito chi l'attribuisce il governo l'opposizione l'attribuisce un presidente della repubblica ora cercare di attribuire a me il fatto che la non partecipazione al voto sia un atto contro quella triste drammatica vicenda storica è evidente un atto un atto diciamo di offesa nei miei confronti io non sto certamente caro Rossi contro coloro che a Firenze hanno fatto quelle hanno bestemmiato quei fatti ma non sto neanche con quei fascisti che sono andati a menare quei ragazzi davanti alla scuola è chiaro questo? è chiaro? lo dico certamente per chi avesse colui che mi ha attribuito la miseria umana qui ci occupiamo di altro ma io la rispetto ma io la rispetto figurati qui ci occupiamo di altro qui c'è una mozione che dice al governo regionale di andare a chiedere al governo nazionale adesso ci anticipa Ciccioli che tutto questo sarà fatto e rispetteremo la legge come sempre abbiamo fatto e quindi da questo punto di vista la revoca attito di quella onoreficenza è un fatto che secondo la mia opinione è altro non è altro che un pretesto per come dire basta ascoltare l'intervento di Ciccioli Ciccioli come dire una storia la storia fatta da Ciccioli e mi fermo qua ecco perché dico ecco perché dico questa non dovrebbe essere l'aula in cui noi attribuiamo agli altri con giudizi quello che siamo stati ognuno di noi è stato non c'è un sì o non c'è un no a questa vicenda si rispetta il capo dello Stato si rispettano le leggi e se le leggi ovviamente vengono modificate vanno ovviamente accettate ed eventualmente qualora il nuovo il nuovo il Presidente della Repubblica decida di revocarlo saranno revocate oggi è solo propaganda oggi con questa mozione si fa solo propaganda grazie se vuole replicare il Consigliere Rossi ne ha facoltà e senza l'articolo 61 però io mi limito al commento che mi è arrivato sul sul telefonino glielo ho già detto non c'è altro non so su cui rispondere mi limito a ricitare il commento che è stato fatto perfetto grazie per il gruppo Fratelli d'Italia il Consigliere Nicola Baiocchi grazie grazie Presidente il mio vuole essere solamente un commento veloce su una tematica complessa purtroppo ero assente nella scorsa seduta nel giorno del ricordo ma è un giorno e sono tematiche molto vicine a noi al nostro partito e alla storia di questa Repubblica di questa Repubblica italiana sinceramente mi auspicavo che non si arrivasse a dei distinguo anche su questi temi su queste tematiche e su queste situazioni purtroppo forse non siamo ancora così maturi su alcune tematiche per capire che fanno parte ormai questa giornata questi ricordi fanno parte della storia della nostra vita e debbano essere semplicemente condannati senza sé senza mai invece purtroppo ancora vedo che questo in alcuni casi non succede come Fratelli d'Italia chiaramente siamo favorevoli a questa a questa mozione che va un po' a ricomprendere una tematica molto chiara una condanna unanime che ormai non solamente i partiti politici ma la storia in generale i partiti politici ma anche le scuole tutto ciò che ruota intorno al mondo in tutti questi anni che è passato ha espresso una parola una parola molto chiara in ordine a questo io sono di Pesaro e ricordo benissimo anche la vicinanza anche della storia delle opere di Paredamiani nella mia città quindi tutto quello che ha portato il contrasto e la lotta al tema delle foglie però purtroppo vorrei ricordare al consigliere Carancini che nella mia città sono anni che cerchiamo di intitolare una via o strada a norma Cossetto e purtroppo questo è stato sempre rifiutato dall'amministrazione comunale abbiamo addirittura predisposto una raccolta firme però neanche questo è bastato per riconoscere questa ragazza trucidata che è uno dei simboli della tragedia delle folbe e questo non è stato possibile ancora mi devono spiegare il motivo il motivo che impedisce tutto questo però questo per far capire che ancora esistono sicuramente delle sacche di situazioni che ancora non sono chiare che impediscono a riconoscere una strada una via ad una povera ragazza che è stata trucidata solamente per una colpa che era la colpa quella di essere italiana grazie grazie per il gruppo Partito Democratico e il consigliere Maurizio Mangialardi Grazie Presidente come anticipato il collega romano Carancini noi non parteciperemo al voto lo dico per il consigliere Rossi perché poi se si attribuisce a uno e lo diventa per tutti almeno nel nostro gruppo io sarei uno di quelle della miseria umana con un altro ruolo da sindaco della mia città ho ospitato l'associazione Dalmati Italiani nel mondo libero comune di Zara per dieci anni nelle iniziative dell'annuale dell'associazione con un rapporto tra l'altro anche particolare con il presidente che lo è stato fino al 2021 Franco Luxardo in una di quelle di quelle iniziative una di quelle e penso forse di essere stato uno dei pochi a nome del del ruolo e per conto del ruolo che in quel momento interpretavo ho chiesto scusa ho chiesto scusa al per quello che l'Italia ha fatto agli esuli e non solo riferito a quel periodo ma come come l'abbiamo accolti o come non l'abbiamo accolti quando fuggivano perché quelli sono pezzi di storia che veramente non abbiamo scritto in modo adeguato quello di oggi però non c'entra nulla e vi prego anche per il rispetto delle nostre storie non mescolate perché nessuno mette in discussione il giorno del ricordo anzi anche se non sono comparabili però una data che merita presidente di avere il giusto momento assembleare il coinvolgimento delle scuole la ricostruzione la ricostruzione perché tanti pezzi non sono ricostruiti in modo adeguato non c'entra niente con invece un'azione che a noi siccome come dire dobbiamo cambiare una norma e aspetto al Parlamento e oggi c'è una una ci avete già anticipato che c'è una volontà io penso che quella volontà anche se dovesse essere cambiata la norma deve trovare la stessa modalità della fonte perché il soggetto che attribuisce l'onorificenza è il presidente della Repubblica e anche se cambia la norma sarà lo stesso presidente della Repubblica che può revocare ecco fatta oggi così con queste modalità e anche con questi toni da sempre l'idea di una provocazione di una tensione quando invece dovremmo cercare su questo tema di aiutare tutti sono d'accordo con il presidente Baiocchi quando dice evitiamolo e se ci sono momenti di tensione e se possono determinare qualche volta forse sottrarre sottrarre per evitare speculazioni e anche interpretazioni non adeguate converrebbe quindi ognuno di noi fa quello che serve con i propri rappresentanti ognuno di noi sollecita in modo adeguato e se solo ci fosse stato il dubbio solo il dubbio che su un tema come questo si potesse aprire una tensione inutile forse forse in maniera intelligente e non provocatoria sarebbe stata da sottrarre all'aula perché anche quello è una modalità quindi noi ribadiamo che saremo in aula ma non partecipiamo al voto per la gruppo lega il consigliere Mirko Vilò grazie presidente semplicemente per dire che questa è un'occasione non per far polemica ma sicuramente per dare una testimonianza oggi diciamo più che mai ricordando il passato questi crimini feroci e atroci che sono stati resi palesemente nei confronti delle popolazioni italiane in Istria Venezia Giulia e Dalmazia ma lo dico perché oggi ho la fortuna come tanti italiani essere stato anch'io insegnito di una carica così importante di cavaliere alla Repubblica italiana so cosa significa portarla perché non è solo riceverli diciamo e poi si ha anche l'onere dei comportamenti e oggi sono stati anche tolte queste cariche a persone che hanno fatto cose futili diciamo nei confronti di quello che invece ha fatto questo signore diciamo questo titolo diciamo come si dice e quindi credo che sia stata oggi da parte di questa assemblea riconoscere questo ruolo un ruolo importante che tanti italiani e quindi su proposta delle associazioni volontarie di chi si adopera diciamo nel mondo sociale economico sportivo di associazionismo riceve su proposte anche dalla presidenza del consiglio o dalle associazioni come dicevo poi il capo dello stato da questi riconoscimenti credo che sia un rispetto rispetto a chi lo indossa dire noi stiamo dalla parte dei giusti e non stiamo dalla parte dei criminali ecco era solo questo io credo che l'assemblea oggi avrebbe dovuto dare questo segnale un voto unanime ad una richiesta al Presidente al Governo al Presidente della Repubblica di togliere questo beneficio diciamo questo riconoscimento importante che tanti italiani oggi hanno lo portano con grande orgoglio con grande dignità e con i loro comportamenti lo difendono ecco questo è il nostro modo di fare quindi la Lega è a favore di questa richiesta di togliere questo riconoscimento grazie 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 non ci sono altri interventi mettiamo in votazione quindi la mozione parliamo della mozione a prima firma Rossi la mozione numero 217 di consigliere Rossi Marcozzi Marinelli Puzzo Borroni richiesta al Governo del Parlamento italiano di modificare la legge 3 marzo 51 15 con conseguente revoca dell'onore efficienza di Cavaliere della Repubblica Iosep Ebroz noto come Tito apertura della votazione prego votare consigliere in aula Borroni ha votato credo sì perfetto bene dichiaro chiusa la votazione favorevoli 16 contrari nessuno astenuti nessuno la mozione approvata adesso vi sarebbe la mozione numero 142 dal punto 8 consigliere latini Rossi requisiti minimi generali per le strutture denominate comunità alloggi anziani prevista all'articolo 7 come 1 lettera C della legge regionale 30 settembre 2016 numero 21 vi chiedo se la possiamo inserire al primo punto all'ordine del giorno della prossima seduta che si tratta di una situazione che merita comunque di essere votata dopo tanto tempo so che è una deraga che faccio essendo firmatario se non è possibile non importa se direte chiudere qui la seduta con primo punto all'ordine del giorno rispetto alla conferenza di questa mattina è una breve digressione va bene allora non vi sono posizioni ufficiali diciamo così espresse grazie dichiaro chiusa la seduta odierna del consiglio regionale grazie per il vostro impegno la vostra partecipazione la vostra dialettica in favore della comunità delle Marche grazie a tutti grazie a tutti